Cominciamo. Intanto un grato e cordiale saluto a tutti, a tutti, anzitutto ai presenti, ai relatori e anche a chi ci ascolta in remoto, visto che ci sono tantissimi collegati. Il Rettore ha avuto un'imprevista e questa mattina è dovuta andare a Roma e quindi ci ha inviato una lettera e mi ha anche chiesto di leggere. Allora scrive il Rettore, cara professoressa Cerniglia, sopraggiunti impegni istituzionali mi costringono ad annullare la mia partecipazione al convegno l'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario nelle materie dell'istruzione e della salute. Porgendo a lei e agli autorevoli ospiti convenuti le mie scuse, desidero comunque far giungere il mio apprezzamento per questa iniziativa frutto della collaborazione con la Fondazione Cariplo e con l'Istituto Luigi Sturzo. Il tema dell'autonomia differenziata nelle regioni a statuto ordinario è di stretta attualità, ma per non rimanere intrappolati nelle polemiche quotidiane, penso sia giusto affrontarlo con una prospettiva di lungo periodo. A tal proposito il pensiero non può che andare alla proposta di regionalismo tracciata da Don Sturzo, poiché serba molti elementi utili ancora oggi. Dunque, a partire da soli di riferimenti storico-valoriali, mi auguro che il convegno sia foriero di riflessione di proposte di policy che vadano a contribuire al dibattito scientifico e a quello pubblico. Nello specifico, i panel previsti si occuperanno di istruzione e salute, due aspetti costantemente al centro dell'agenda politica dei governi italiani, ma troppo spesso affrontati senza un solido legame a una visione organica di ridefinizione delle competenze, che sappia tenere insieme le aspirazioni e le esigenze locali con la visione unitaria dello Stato fissata nella Carta Costituzionale. Temi dunque cruciali, sui quali una riflessione puntuale è sempre necessaria, ed è per questo motivo che rinnovo le mie congratulazioni per l'iniziativa. Mi scuso nuovamente per la mia assenza e auguro a tutti un buon proseguimento dei lavori. Ora, detto questo, diciamo io non voglio qui ora rubare tempo ai relatori al dibattito, e voglio quindi soltanto dire due parole a premessa d'apertura di questo convegno, facendo anche poi qualche riflessione molto breve rispetto a questa riforma in itinere di cui discutiamo oggi, stiamo parlando del disegno di legge Calderogli, una riforma in itinere perché in questo momento è in discussione alla Camera dei Deputati. La mia premessa, ma la quale tengo molto a fare, è che questa iniziativa che noi oggi abbiamo organizzato come Cranec e con l'Istituto Sturzo, è un'iniziativa che però si colloca nello sfondo ampio del regionalismo e del decentramento in Italia. Tema ovviamente, come c'è anche ricordato il Rettore, caro all'Istituto Sturzo, potremmo dire un tema identitario, ma anche un tema che in questi anni è stato oggetto di numerose ricerche e di anche diversi volumi del Cranec, in alcuni casi anche con la Fondazione Astride di Roma. Infatti abbiamo negli scorsi anni promosso qui al Cranec e in Università Cattolica diverse conferenze su questo tema del decentramento che noi economisti spesso un po' sommariamente, devo dire anche un po' forse rozzamente definiamo come governo multilivello, cioè un tema al quale noi guardiamo soprattutto per quanto concerne gli aspetti delle relazioni finanziarie tra i livelli di governo. Però, e questo ci tengo molto a sottolinearlo, in queste ricerche, in questi volumi che il Cranec ha promosso, noi non abbiamo mai confinato su questi temi il punto di vista soltanto agli aspetti finanziari, quindi non abbiamo coinvolto soltanto economisti, ma sempre abbiamo cercato di inquadrare e studiare il tema declinando sia i profili giuridici sia i profili finanziari. Ed è anche quello che faremo oggi, infatti discuteremo di queste due materie istruzione e salute con delle relazioni che appunto vedranno la partecipazione di giuristi e di economisti. Come appunto sentirete tra poco, sulla base di quanto prescrive il comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione, istruzione e salute potranno essere interamente, diciamo, trasferite alle regioni. Quindi su salute e istruzione, e sulla salute in questo momento è in parte anche una competenza regionale, potranno, diciamo, essere, come dire, una competenza regionale. E quindi cercheremo di capire cosa il disegno di legge Calderoli dice, ma anche cosa non dice rispetto a questa prospettiva, perché appunto è una prospettiva che apre molti nodi problematici, anche perché questa possibilità di, come dire, trasferire queste materie non andrà necessariamente a tutte le regioni a statuto ordinario, ma soltanto a quelle che chiedono. Come detto, questa eventualità apre tutta una serie di nodi che devono essere capiti, che devono essere sciolti, perché sono nodi che hanno a che fare non soltanto sulla questione delle risorse o sui criteri di riparto che bisognerà trovare per, appunto, diciamo, trasferire l'istruzione e la sanità alle regioni, ma sono questioni che ovviamente sono connesse al diritto alla salute e al diritto all'istruzione e questi diritti hanno, come capite bene, una dimensione unitaria. Ora, però, io non mi avventuro su questo campo, in questo campo, che non è un tema mio. Abbiamo invitato relatori molto qualificati sul tema e perché sono qualificati? Questi relatori sono molto qualificati, sia perché ovviamente sono studiosi su queste questioni, ma poi hanno ricoperto e ricoprono incarichi istituzionali molto importanti. Il professor Baldussi è stato ministro della salute, il professor Pisauro, che sarà uno dei relatori, ma poi si collegherà appunto in remoto da Roma, è stato il primo presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio. La professoressa Poggi ha fatto parte, o meglio, fa ancora parte del comitato CLEP, il comitato presieduto dal professor Cassese, che, diciamo, nell'ambito di questa riforma ha il compito importante di fare una ricognizione sui livelli essenziali delle prestazioni. E poi abbiamo la professoressa Lattarulo dell'IRPET, la professoressa Lattarulo lavora in un importantissimo istituto di ricerca che ha il compito di monitorare minuziosamente, e l'IRPET lo fa sempre egregiamente, devo dire, ha il compito di valutare gli impatti finanziari di tutte le politiche pubbliche sulle regioni. E quindi, diciamo, abbiamo un gruppo di relatori che sono molto qualificati su questi temi. Ora, fatemi, prima di, appunto, passare la parola ai relatori, fatemi dire, come dire, due parole a beneficio di chi è qui ad ascoltare, ma è qui ad ascoltare pur non essendo un grande appassionato del genere, perché, diciamo, ahimè, noi siamo stati un po' in questi anni gli appassionati del genere, del regionalismo differenziato, però ovviamente non tutti lo sono. Quindi cerco un po' di riassumere velocemente la questione, aprendo un po', come si suol dire, alle puntate precedenti. Ora, di cosa dobbiamo discutere oggi? Di cosa stiamo discutendo? Stiamo discutendo del comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione. Questo comma 3 è una novità assoluta, nel senso che fu introdotto per la prima volta nel 2001, con la riforma del titolo quinto, e questo comma 3, che, ripeto, è stata una novità assoluta nel 2001, dice, prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite a tutte le regioni a statuto ordinario in quelle materie che, secondo quanto prescrive l'articolo 117, terzo comma della Costituzione, sono ad oggi di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni. Attenzione che si tratta di un ventaglio molto ampio di materie, in tutto sono 20, che potrebbero quindi passare alla competenza esclusiva delle regioni, ad esempio l'istruzione, di cui parleremo oggi, la ricerca scientifica e tecnologica, il sostegno all'innovazione per i settori produttivi, la tutela della salute, il governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto, la produzione, il trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, il coordinamento della finanza pubblica e tributaria ed altre materie. In tutto, ripeto, sono 20 materie. Ma attenzione, sempre questo comma 3 dell'articolo 116 prevede anche che possono passare alla competenza delle regioni a statuto ordinario anche tre competenze che ad oggi sono competenze esclusive dello Stato e che sono organizzazione della giustizia e di pace, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. In sostanza, stiamo parlando di un ventaglio amplissimo di materie, in tutto 23, che possono passare alla competenza esclusiva delle regioni, che possono essere loro attribuite sulla base di una legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali nel rispetto dei principi di cui è l'articolo 119 della Costituzione, che, ricordiamo, quest'articolo fu introdotto anch'esso nel 2001 e serve a normare i profili dell'autonomia finanziaria dei governi locali. Sempre il comma 3 specifica altresì che tale legge deve essere approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di un'intesa tra lo Stato e la regione interessata. Faccio notare nuovamente che si tratta di 23 materie, ma attenzione, ognuna di queste materie poi si articola al suo interno in funzioni e, secondo anche una ricognizione che ha fatto il Dipartimento per gli Affari Generali con il Ministro Calderoli, stiamo parlando di circa 500 funzioni. Se io guardo queste 500 funzioni dal punto di vista della spesa pubblica, posso dire che, sostanzialmente, si tratta sostanzialmente di quasi tutta la spesa pubblica. Dobbiamo togliere, ovviamente, la difesa, le pensioni e l'ordine pubblico. Però, tolte queste tre, diciamo, materie, tutte queste 500 funzioni sono sostanzialmente la maggior parte della spesa pubblica italiana. Ora, questo comma 3 è di difficile attuazione, è stato di difficile attuazione, ha dato in questi anni adito a diverse interpretazioni e questo è il motivo per cui gli ultimi tre ministri dei tre governi che si sono avvicendati, Boccia, Gelmini e ora Calderoli, hanno cercato di instradare questa riforma utilizzando, diciamo, lo strumento di una legge quadro, proprio per cercare di definire meglio principi e criteri per il trasferimento di questo ventaglio così ampio di materie alle regioni e anche cercare di capire meglio quale deve essere la procedura, quale deve essere il ruolo del Parlamento e poi anche la questione dell'EP, i livelli essenziali delle prestazioni. Perché? Perché questo comma 3 del 116 è effettivamente difficile da interpretare, ad esempio, relativamente al termine intesa, secondo alcune interpretazioni giuridiche, si dovrebbe applicare un'analogia con la procedura che regola i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose. Il riferimento, ovviamente, è all'articolo 8 della Costituzione che prevede un iter di tipo negoziale tra le due parti con un ruolo marginale del Parlamento che può approvare o rigettare l'intesa, ma non può proporre emendamenti. Se questa interpretazione del comma 3 dovesse prevalere, l'intesa tra lo Stato e la Regione, o meglio, tra il Governo regionale, quindi tra due esecutivi che chiedono l'autonomia differenziata avrebbe, diciamo, la natura pattizia. Quindi questa intesa avrebbe la natura pattizia tra due esecutivi, quello regionale e quello nazionale, appunto, e il Parlamento avrebbe un ruolo marginale. Ma, in base ad altre possibili interpretazioni, nel caso dell'autonomia differenziata, poiché l'articolo 116,3 può dare luogo ad una modifica della ripartizione delle competenze legislative nel nostro ordinamento, è importante che il Parlamento abbia un ruolo non secondario, perché potrebbe persino verificarsi che se tutte le Regioni a statuto ordinario chiedessero e, ovviamente, fosse concesso autonomia su tutte le materie, si potrebbe svuotare, modificare in maniera sostanziale l'articolo 117, quindi noi modifichiamo la Costituzione con una procedura insolita, cioè tramite il comma 6, il comma 3 del 116. E questo, per esempio, è un grosso problema interpretativo sul comma 3 del 116. Ma altri problemi, per esempio la questione del LEP, che, attenzione, sono stati previsti per la prima volta i livelli essenziali delle prestazioni nel 2001, con la riforma del titolo V, la definizione del LEP è una competenza statale, ma non sono stati mai definiti. I LEP non sono stati mai definiti, adesso c'è questa commissione CLEP al lavoro, tanto che tutta la partita del fisco regionale, cioè, come dire, il sistema di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario, in questo momento è in stallo. Noi siamo in una situazione come se fossimo ancora nel 2001, proprio perché in mancanza di questi livelli essenziali delle prestazioni non è possibile mettere in campo un fondo perequativo che deve ridurre le differenze nelle capacità fiscali tra le Regioni italiane. Voi, come sapete, a causa del divario c'è molta differenza tra le capacità fiscali delle Regioni, perché la capacità fiscale segue il grado di sviluppo economico. E in una battuta, quindi, oggi, il fisco regionale, quindi il sistema di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario, come doveva essere riformato in base al 119 della Costituzione, poi della legge delega e poi del Decreto 68, è lettera morta. Non ha trovato attuazione. Cioè, possiamo dire che ad oggi le Regioni a statuto ordinario vivono ancora in prevalenza di finanza derivata, cioè vengono finanziati da fondi statali a destinazione vincolata e non esiste un fondo perequativo. Per cui, in questi anni, in cui non si sono fatti passi avanti, anzi, non sono stati mai fatti passi sul fronte del fisco regionale, anche per mancanza dell'EP, la riforma del fisco regionale è una riforma prevista, però, dal PNRR adesso, qualche anno fa, nel 2017, tre Regioni, Emilia, Lombardia e Veneto, hanno chiesto l'autonomia differenziata e sono state stipulate delle bozze di preintesa negli ultimi giorni del governo Gentiloni su alcune materie. Poi, anche nell'ultima fase del governo Conte I c'erano state delle preintese un po' segrete, nel senso che una prima parte è stata pubblica, una seconda parte non è stata resa pubblica, però sia durante gli ultimi giorni del governo Gentiloni sia durante il Conte I queste preintese sono state firmate ma non sono mai andate in Parlamento proprio perché poi i governi sono caduti. Proprio quindi per cercare di stradare diciamo così un po' questo disordine, questa procedura disordinata delle intese che è stata quindi un po' accidentata dal 2017 in poi sia per motivi tecnici, interpretativi e anche per motivi politici, sia il Ministro Boccia, sia il Ministro Gelmini e ora il Ministro Calderoli hanno cercato di impostare il tema utilizzando quindi lo strumento di una legge quadro di attuazione. Questa legge quadro di attuazione che diciamo più precisamente si chiama Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario e sensi dell'articolo 116 terzo coma della Costituzione è stato presentato dal Governo al Senato il 23 marzo 2023 è un testo che in Senato ha avuto diversi emendamenti, molti di questi emendamenti hanno apportato anche diciamo modifiche importanti e migliorative e questo testo è uscito dal Senato alla fine di gennaio e quindi in queste settimane è in discussione presso la Camera dei Deputati. Però diciamo il testo che adesso è in discussione alla Camera dei Deputati sicuramente ha avuto dei miglioramenti rispetto al testo che era stato licenziato dal Governo ma ci sono ancora dei nodi problematici come dicevo poc'anzi nodi che sono anche pericolosi se non venissero diciamo affrontati adeguatamente in questa fase che c'è in questo momento di discussione. Non possiamo discutere tutti gli aspetti che sono tanti di questo disegno di legge Calderoli anche perché poi come dirà il Presidente dell'Istituto Sturzi il Professor Antonetti questo convegno è il primo di un ciclo di seminari proprio di approfondimento su questa questione oggi appunto ci concentriamo soltanto sulla questione istruzione e salute. I nodi problematici sono tanti però diciamo avviandomi alla conclusione voglio evidenziare due nodi che dal mio punto di vista sono davvero diciamo difficili aprono diciamo scenari che potrebbero un po' essere come dire complessi e che quindi andrebbero diciamo affrontati meglio e secondo me diciamo ce ne sono tanti ma ce ne sono qui due che voglio portare all'attenzione il primo nodo la prima questione del limite da porre alle regioni che possono chiedere funzioni in materia nel senso che in questo momento anche in base al testo della legge quadro le regioni possono chiedere tutto cioè possono anche chiedere per esempio la competenza sul coordinamento della finanza pubblica dell'ordinamento tributario in realtà nel disegno di legge un piccolo limite c'è nel senso che si dice che il presidente del consiglio dei ministri può limitare l'oggetto delle materie o ambiti di materie individuate dalle regioni nell'atto di iniziativa per preservare l'unità giuridica ed economica nonché di indirizzo rispetto ad alcune politiche pubbliche nazionali mi chiedo e qui ci sono dei giuristi se tutto ciò sia sufficiente se sia corretto perché addirittura alcuni in questa prescrizione cioè soltanto il presidente del consiglio dei ministri può mettere dei limiti alcuni hanno visto addirittura un'anticipazione del premierato la professoressa Poggi ha posto molto bene questo problema del limite in un suo articolo recente molto bello e quindi poi sentiremo anche la professoressa Poggi cosa pensa insomma rispetto a questa questione che secondo me è dirimente fermo restando e qui apriremo diciamo un'altra questione che questa legge quadro non ha un rango superiore rispetto alle intese quindi anche se la legge quadro ponesse dei limiti le intese possono comunque procedere anche senza tenere conto della legge quadro quindi diciamo anche questo è un altro aspetto diciamo un po' come dire difficile da districare ed infine un ultimo aspetto che io vedo molto problematiche ed è un aspetto che mi riguarda più da vicino perché ha a che fare con il meccanismo di finanziamento delle funzioni delle materie che saranno trasferite io anche diciamo in questa versione che sicuramente è migliorata vedo che il meccanismo di finanziamento previsto per queste regioni che chiedono l'autonomia differenziata è un meccanismo di finanziamento che ha tantissime similitudini con il meccanismo che oggi esiste per le regioni e statuto speciale perché in fondo anche qui noi avremo un'aliquota di compartecipazione per finanziare dei fabbisogni di spesa che verranno stimati e quantificati dalla commissione tecnica sui fabbisogni standard sulla base di LEP eccetera ma ad ogni modo rimane un meccanismo in cui tutto l'aliquota di compartecipazione il monitoraggio eccetera eccetera è in mano a singole commissioni paritetiche una commissione paritetica per ogni regione che chiede l'autonomia differenziata è altra cosa secondo me bizzarre che poi però non si ravvisano elementi di autonomia finanziaria sui tributi da parte di queste regioni che avranno così tanti poteri sul fronte della spesa perché in fondo un'aliquota di compartecipazione al gettito altro non è che un trasferimento mascherato quindi diciamo tramite un'aliquota di compartecipazione che di fatto diventa un trasferimento si finanziano queste spese che vengono quantificate sulla base dei fabbisogni cioè se noi se si procede quindi con questa modalità di finanziamento noi in Italia avremmo tre modelli avremmo le regioni statuto speciale che hanno una compartecipazione pressoché totale sul gettito del tributo errariale poi avremo il modello delle regioni statuto ordinario che non conosciamo in questo momento che è tutto da costruire perché come vi dicevo non c'è il fondo per equativo non c'è la stima della capacità fiscale eccetera eccetera regioni a diciamo autonomia differenziata non tutte alcune che finanziano dei fabbisogni di spesa con un'aliquota di compartecipazione con l'ovvia conseguenza che per esempio se lo Stato volesse destinare meno risorse a queste regioni per finanziare i LEP le regioni potranno sempre dire ai propri cittadini che è colpa dello Stato che non finanzia i LEP quindi io qui non ravviso molti elementi di responsabilità e di vera autonomia da parte delle regioni che chiedono ma insomma è più come dire ottenere materie e risorse che poi comunque vengono coperte e garantite dallo Stato io mi fermerei qui passerei subito la parola alla professoressa Poggi che introduce quindi dal punto di vista giuridico il tema dell'istruzione e in generale del disegno di legge grazie buon pomeriggio grazie grazie all'istituto Sturzo al suo direttore per l'invito molto molto gradito grazie a Floriana Cerniglia che ha fatto una introduzione davvero importante analitica e che ci consente credo a noi che dobbiamo adesso intervenire attraverso delle puntualizzazioni di fare di avere già appunto questo questo quadro così ben ricostruito alle spalle come io articolerò quello che voglio dire in tre momenti di cui i primi due momenti sono un po' propedeutici alla questione madre dell'istruzione però bisogna tornare necessariamente su alcuni dei punti che Floriana prima ha individuato e i tre passaggi sono appunto qualche puntualizzazione sulla questione del 116 all'interno dell'impalcatura costituzionale il DDL Calderoli e infine la questione puntuale dell'istruzione come avrete capito dalla introduzione che è stata appena fatta l'articolo 116 terzo comma viene introdotto con la revisione costituzionale di tutto il titolo quinto nel 2001 questa è sicuramente all'interno dell'impianto del titolo quinto la norma in assoluto la norma introdotta in assoluto più problematica di tutta la revisione costituzionale più problematica perché in realtà ed è anche il motivo per cui sono passati vent'anni e non si riesce ancora a dargli una configurazione precisa perché in sostanza il 116 introduce a tutti gli effetti un terzo modello di regione questo è il punto vero un terzo modello di regione diverso dalla regione speciale diverso dalle cinque regioni speciali quindi già operanti nel nostro ordinamento con i propri statuti molto simile alla fine nella sua ricaduta concreta alle regioni speciali profondamente diverso dalle regioni ordinarie ma il 116 in realtà introduce questo istituto all'interno di un impianto che è un impianto che non lo tollera più di tanto perché è un impianto quello del titolo quinto immaginato sostanzialmente su poche regioni speciali e infatti cinque sono e cinque rimangono e un regionalismo ordinario e ordinato dallo stesso titolo quinto quindi aver introdotto un modello diverso di regionalismo è già stato questo un problema i problemi sostanziali il primo problema quello che io ritengo il bandolo di tutta la matassa è proprio relativo alla questione delle materie l'addizione del 116 è un'addizione ambigua ambigua perché il 116 dice in sostanza che ulteriori forme condizioni particolari di autonomia possono essere date alle regioni non specificava se è ordinario o speciali invece adesso il DDL Calderoli dice che sono sia speciali che ordinarie e qui ulteriormente confondendo di nuovo il modello nelle materie concernenti allora perché questa dizione è problematica ed è particolarmente problematica per materie come l'istruzione è problematica in generale perché non so quanti studenti che sono qui sono di giurisprudenza però insomma siete di giurisprudenza più o meno sì ecco ecco perché è problematica perché dal punto di vista nostro del diritto costituzionale le materie non sono in sé trasferibili non sono in sé trasferibili con il meccanismo individuato del 116 questo è il punto sarebbero trasferibili per norma costituzionale ma non certo con quel meccanismo e invece sarebbero trasferibili le funzioni che stanno dentro le materie le famose 500 funzioni cui faceva prima riferimento Floriana quelle sì che sono trasferibili e quelle lo sono state sempre trasferibili a partire dai decreti legislativi di trasferimento degli anni 70 il legislatore statale continua a trasferire funzioni non materie le materie sono attribuite per costituzione quindi già questo è un problema enorme che con una legge anche rinforzata qualcuno possa pensare di trasferire materie quindi una prima indicazione chi scriveva su questi temi aveva subito dato due tipi di indicazioni subito quando è entrato in vigore il 116 aveva detto anzitutto facciamo almeno a livello di dottrina sulla base della giurisprudenza della Corte Costituzionale l'elenco di una serie questa volta di materie che sarebbe bene rispetto alle quali sarebbe bene che non si attivasse proprio il meccanismo del 116 terzo comma una di queste quelle che tu hai appena citato il coordinamento della finanza pubblica ma come si può anche solo immaginare di trasferire anche solo qualche funzione relativa al coordinamento della finanza pubblica a tutte le regioni in in autonomia differenziata già solo il fatto del patto di stabilità a livello di Unione Europea impedisce qualunque tipo di frantumazione di questo gesto sarebbe tutto fuori controllo lo Stato non avrebbe più il controllo rispetto all'Unione Europea del patto di stabilità quindi avevamo invece attenzione la la interpretazione che c'è nel DDL Calderoli consente questo e io su questo punto devo dire che per esempio nelle tre preintese del governo Gentiloni 2018 se non ricordo male ma credo proprio di ricordare molto bene mi sembra proprio la Lombardia chiedesse il coordinamento quindi attenzione perché questo significa porre le premesse per far saltare dei meccanismi che non sono più meccanismi che riguardano una regione ma che vanno a riguardare tutto il complesso dell'ordinamento dello Stato quindi avevamo detto e questo l'avevamo ribadito insieme ad alcuni colleghi durante il periodo del governo Monti quando l'allora ministra Gelmini aveva costituito una commissione di studi proprio sulla possibile attuazione del 116 insieme a questi colleghi avevamo stilato un elenco di materie che secondo noi bisognava proprio sottrarre dalla ipotesi di interessamento di una autonomia differenziata tra cui appunto il coordinamento della finanza pubblica batterie che di per sé non sono scorporabili tipo le grandi reti di trasporto e di comunicazione ma come si fa a pensare di scorporare materie di questo genere oppure materie come la stessa istruzione che in realtà in larga parte come funzioni amministrative sono già trasferite alle regioni col decreto legislativo 112 del 98 ma per la parte in cui non lo sono non è opportuno farlo perché non è opportuno dare alle regioni indifferenziata le norme generali sull'istruzione è un problema di unitarietà del sistema in alcuni gangli vitali incredibili immaginate voi se ogni regione che chiede la differenziata può farsi le norme generali sull'istruzione che significa in altri termini per esempio decidere che la scuola primaria anziché cinque anni ne ha tre o ne ha sei e così via o che l'ordinamento è già un po' più complesso però anche sulla questione del personale il personale potrebbe essere trasferito tutto i concorsi potrebbero quindi insomma voglio dire c'erano questioni di opportunità politica che richiedevano questo ora il DDL Calderoli contiene in effetti questa norma ecco no l'altra cosa che io per esempio avevo scritto all'epoca avevo detto anche se il 116 non lo dice ma sarebbe opportuno che l'interpretazione del regionalismo differenziato fosse tale per cui le regioni che richiedono la differenziazione su funzioni o materie ne dia una motivazione cioè devono motivare il perché chiedono quella funzione o quella materia e devono in qualche misura dimostrare che la loro gestione tra virgolette è una gestione che rende un servizio migliore al cittadino da questo punto di vista si poteva anche immaginare che regioni come la Toscana potessero chiedere per esempio qualcosa di più sui beni culturali perché no penso che oggettivamente una regione come la Toscana su quella oppure non so il Piemonte sulla materia della tutela ambientale in Piemonte ci sono molti parchi naturali cioè agganciare l'idea della differenziazione non in linea generale alla possibilità di avere più risorse ma agganciarla al fatto che la gestione di una funzione potesse essere migliorativa per diciamo così anche per i diritti dei cittadini tutto ciò nel DDL Calderoli non c'è quindi non c'è un limite vero alle materie se non quello che citava prima Floriana e cioè la possibilità che direttamente il presidente del Consiglio dei Ministri possa porre per ragioni che riguardano la tutela dell'unità giuridica ed economica possa dire alla regione interessata no la regione che fa le richieste no queste materie queste funzioni non le diamo in differenziata ovviamente voi potete capire che questo da un certo punto di vista potrebbe essere considerato un aspetto positivo c'è un'idea di limite però attenzione perché quello che noi abbiamo visto in questi anni funzionare sul regionalismo differenziato più o meno va così che quando al governo c'è una parte politica le regioni amiche cioè di quella stessa parte politica fanno richieste a cui ovviamente il governo in carica è particolarmente sensibile e le altre no questa è una dinamica che noi ormai conosciamo molto bene quindi anche questo potere di limite se non è a sua volta delimitato secondo la logica del costituzionalismo che non ci sono dei poteri assoluti ma tutti sono limitati è chiaro che non è sicuramente un argine perché questo è problematico per l'istruzione ma io penso di avervelo già accennato la istruzione alla fine le norme generali sull'istruzione non sono sottratte alla possibilità di differenziazione questo è un problema enorme che si può recuperare si imparte attraverso l'indicazione che alcune di quelle funzioni diventino livelli essenziali delle prestazioni come dirò poi a un certo punto ma non è tutto recuperabile ma è la stessa idea che non esista più un sistema unitario io ho sempre ritenuto che l'istruzione insieme alla sanità siano una infrastruttura nazionale del sistema facendo saltare questo aspetto è evidente che dal punto di vista teorico si creano dei grandi problemi rispetto anche secondo me all'articolo 5 della Costituzione ma soprattutto si creano le premesse per un possibile disordine e non solo disservizio ma anche venir meno del godimento dei diritti civili e politici su tutto il territorio nazionale secondo passaggio i livelli essenziali delle prestazioni il 116 terzo comma non fa minimamente accenno a questa questione cioè non considera la preventiva individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni come una precondizione per l'attuazione del regionalismo differenziato il Didiele Calderoli invece questo aspetto lo ha considerato cioè considera che anzi non considera appone la individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni cioè quindi materia per materia nelle famose 23 materie bisogna individuare quali sono i livelli essenziali delle prestazioni cioè il livello minimo di prestazione che deve essere garantito a tutti su tutto il territorio nazionale in maniera tale che diventa una precondizione anche per le regioni che chiedono il regionalismo differenziato perché devono se chiedono quella materia garantire il livello essenziale delle prestazioni quindi il Didiele Calderoli effettivamente fa questa operazione però qui c'è un tema che è un limite grosso il limite grosso è costituito dal fatto che il Didiele Calderoli e questo è stato anche il limite con cui ha lavorato il comitato di cui ho fatto e continuo a far parte dice che quei livelli essenziali delle prestazioni vanno individuati a legislazione vigente cosa vuol dire in altri termini questo individuarli a legislazione vigente ha una motivazione di tipo economico finanziario chiarissima cioè dire i livelli essenziali delle prestazioni che sono limite a regionalismo differenziato sono quelli che esistono già nella legislazione vigente la motivazione vi è chiara se esistono già significa che nel momento in cui sono stati introdotti con una qualche legge avevano una copertura ergo significa che si possono individuare i livelli essenziali delle prestazioni a saldi di bilancio invariati naturalmente questo che ha una sua logica mi seguite ha una logica cioè dire in questo modo non facciamo esplodere la spesa pubblica però voi capite perfettamente che questo significa fotografare la situazione esistente e significa fotografare vi faccio solo un esempio su cui con con Floriana so che continuiamo a litigare ma io continuo a essere convinta della mia idea gli asili nido che cioè su cui noi abbiamo già questionato e discusso eccetera gli asili nido sono stati introdotti come livello essenziale della prestazione era una finanziaria una legge finanziaria di qualche anno fa sono stati introdotti però con un limite di copertura che è il 33% su tutto il territorio nazionale quindi dal mio punto cioè lei sostiene che questa è una media accettabile se non ho capito male io non sono così convinta cioè io non sono così convinta che tutto ciò che noi non abbiamo già nella legislazione attuale individuato come livelli essenziali delle prestazioni siano una garanzia sul fatto che alcune prestazioni poi effettivamente costituiscano una barriera una eccessiva differenziazione ho fatto l'esempio degli asili nido ma ve ne potrei fare un altro che è ancora più rilevante la questione legata alle innovazioni tecnologiche cioè a tutti la banda la copertura banalmente la copertura noi sappiamo che ci sono intere parti del territorio nazionale che non hanno questo e nella legislazione vigente non c'è nessuna garanzia su questo attenzione perché aver detto che i LEPA sono solo quelli a legislazione vigente significa come dire pietrificare una situazione tra l'altro quando quei LEPA sono stati individuati nelle leggi non sono stati individuati nelle leggi con l'obiettivo di essere un freno al regionalismo differenziato quelle leggi hanno individuato i livelli essenziali in un'altra ottica infatti non li chiamano nemmeno così li chiamano secondo formule analoghe quindi questo fattore è un fattore che sicuramente tiene in piedi diciamo così la parte finanziaria economica però è un fattore abbastanza preoccupante perché significa che in realtà quella operazione che era un'operazione diciamo così di correlare il livello essenziale al regionalismo differenziato in realtà non è stato possibile farla perché questo avrebbe invece comportato non farli a legislazione vigente ma fare un'altra operazione costruirli a livello teorico correlati esattamente al tema della differenziazione e poi vedere se nella legislazione c'era una rispondenza o se invece questa legislazione ha bisognava di essere modificata poi e questo naturalmente per l'istruzione è un problema perché nell'istruzione a differenza che nella sanità in cui erano individuati preventivamente i LEA in istruzione non sono mai stati individuati in maniera organica livelli essenziali di prestazione e quindi la loro ricostruzione è esposta sulla base della legislazione vigente cosa che è stata fatta però ovviamente sconta tutti i limiti terza questione quella anche qui l'ha accennata floriana però importante è la questione del trasferimento delle risorse il meccanismo che sta alla base della legge Calderoli è connotato da due o tre snodi il primo snodo è che si basa tutto sulla compartecipazione cioè le regioni che chiedono la differenziazione non avranno trasferimenti da parte dello Stato ma comparteciperanno di tributi ora qui speriamo di non dire cose inesatte ma le ho lette quindi se sono inesatte perché le ha scritte inesattamente colui da cui le ho lette se l'iva non si può toccare perché già serve per la sanità significa che dobbiamo per la parte dell'istruzione che sarebbe quella che pesa di più in assoluto dobbiamo toccare l'IRPEF e quindi dobbiamo scontare il fatto che una ci sono ovviamente delle regioni che hanno delle basi imponibili completamente diverse quindi questo significa che regioni come quella in cui siamo oggi può chiedere tranquillamente tutto mentre ci sono tutta l'istruzione perché può avvantaggiarsi di una compartecipazione che le consente di sopportare altre regioni questo non lo potranno fare e se lo fanno lo fanno con un rischio incredibile e qual è il rischio incredibile? quello poi di non riuscire a erogare i servizi sul proprio territorio perché? Perché il secondo meccanismo poi è che le famose commissioni paritetiche una ognuna per regione che poi ha chiesto la differenziazione devono ogni tre anni mi sembra valutare lo scostamento tra il livello della compartecipazione e il fabbisogno per le funzioni richieste e ogni volta che c'è uno scostamento aumenta la compartecipazione quindi prende meno lo Stato e prende più la regione ovviamente questo meccanismo che di nuovo teoricamente ci potrebbe avere una sua coerenza voi capite che è un meccanismo che regge se sono due barra tre le regioni che chiedono la differenziazione ma se le regioni che chiedono la differenziazione sono tutte vuol dire che ognuna delle venti regioni perché sono comprese anche le speciali dal DDL Calderoli avrà una commissione paritetica che sulla base delle materie che sono state richieste ogni tre anni vede qual è lo scostamento tra il livello della compartecipazione e il fabbisogno per le e voi capite che questo significa che va a farsi bene dire qualunque forma di coordinamento che lo Stato può fare rispetto al sistema tributario cioè non c'è più nessuna possibilità da parte dello Stato veramente di contro perché il meccanismo dello scostamento ha una sua logica quello che non prende lo Stato lo prende la regione a livello di compartecipazione ma è tutto il meccanismo nel suo complesso che non ha più nessun punto di unitarietà arriviamo alle ultime considerazioni e questo capite che su materie come la istruzione è deflagrante è deflagrante perché tutta la questione dell'istruzione si basa sul fatto che tu garantisci puoi veramente garantire e dei livelli e il mancato controllo da parte dello Stato su queste materie diventa veramente un problema enorme veniamo all'istruzione nel comitato di cui ho fatto parte abbiamo in effetti fatto un lavoro di ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni perché ci siamo messi dal punto di vista appunto di valutare tutte le le leggi che prevedevano dei livelli essenziali delle prestazioni sono stati individuati cinque macroambiti cioè gli ordinamenti scolastici la programmazione della rete il personale scolastico la parità il diritto allo studio l'edilizia e l'innovazione digitale soprattutto su alcuni di questi macroambiti come quello del personale i livelli essenziali delle prestazioni sono davvero parecchi nel senso che effettivamente per esempio le procedure di reclutamento la formazione dei docenti cioè è tutto coperto da LEP quindi le regioni che effettivamente vanno poi a chiedere queste materie devono comunque garantire quei livelli essenziali delle prestazioni è chiaro che il punto cioè naturalmente queste sono prescrizioni normative il punto sarà poi come vengono applicate perché noi sappiamo perfettamente che non è vero che con una legge si abolisce la povertà siamo d'accordo? ci hanno raccontato che con una legge si aboliva la povertà ma noi sappiamo che questo non è vero quindi dobbiamo presumere che non è detto che se non c'è una e qui torniamo al punto di prima se non c'è una struttura regionale che supporti in maniera effettiva la richiesta di differenziazione non siamo assolutamente sicuri che quei livelli essenziali vengano effettivamente rispettati anche perché non so se vi è chiaro ma la regione che chiede la differenziazione sull'istruzione chiede tutto si deve munire di una struttura che nel 90% dei casi non ha per gestire quella materia una struttura molto complessa poi c'è un altro problema se tutte chiedono l'istruzione che fine fanno le strutture statali che fine fanno le direzioni generali dei ministeri cosa si mettono a fare tutti i dirigenti ministeriali che in questo momento e sono tanti perché mi sembra che ci siano 33-34 direzioni solo al ministero dell'istruzione cosa facciamo li prendiamo e li deportiamo nelle regioni che hanno chiesto la differenziazione non credo che sia possibile da nessun punto di vista ci riempieremo solo di contenzioso e basta quindi voi capite perfettamente che forse bisognava pensarci un po' prima un po' prima quando si è messo mano al testo perché ci sono effettivamente delle il caso dell'istruzione è un classico ci sono delle materie all'interno di quelle materie delle funzioni che sono così complesse già così strutturate a livello di organizzazione statale che è complicatissimo darle in differenziazione sarebbe stato più semplice probabilmente agire sui procedimenti sulla semplificazione dei procedimenti sulla possibilità per le regioni di semplificare procedure ma non di avere strutture improprio che gestiscano servizi rilevanti come quelli in teoria dell'istruzione comunque vi notifico che Lombardia e Veneto hanno sempre chiesto tutta l'istruzione fino alle bozze gentiloni in cui invece avevano chiesto solo dei pezzi ma poi e qui chiudo la mia domanda fondamentale è una ma perché ma perché chiedere l'istruzione indifferenziata ma che senso ha cioè la mia domanda fondamentale a parte tutte le questioni tecniche e le grandi questioni diciamo così di organizzazione che starebbero dietro questa operazione la mia domanda fondamentale è ma qual è l'interesse di una regione ad avere l'istruzione cioè una di quelle materie che caratterizzano in maniera forte l'unitarietà di uno Stato l'unità d'Italia si fece sul servizio militare e sulla scuola questo è il mio amico e collega Mangia dice per problemi di soldi possibile possibile ma attenzione perché qui siamo veramente sui cardini i cardini della unitarietà della Repubblica quindi attenzione perché qui toccare questo cardine significa davvero andare a ripeto ecco perché io ho sempre detto le regioni che chiedono la differenziazione devono motivarla e mi dovrebbero spiegare in maniera motivata che senso ha avere all'interno di uno Stato unitario norme generali sull'istruzione frazionate sul territorio nazionale grazie adesso passo la parola alla professoressa Lattarulo e volevo dire che anch'io mi sono posta più volte la tua stessa domanda però io ho una risposta forse me la sono data cioè l'interesse non è soltanto sulle risorse in più in meno ma probabilmente l'interesse è cambiare modello sull'istruzione cioè io ho l'impressione che nel caso della Lombardia l'idea è diciamo come dire trasportare il modello pubblico privato che esiste in sanità anche nel campo dell'istruzione questa è una spiegazione che in questi anni ho provato a darmi perché io stessa faccio fatica a capire insomma diciamo il perché di tutto questo disordine di tutta questa trafila che bisogna che bisogna diciamo poi mettere in campo ma insomma è una risposta così che mi sono data non so adesso passo la parola a Patrizia che sicuramente ci farà vedere dei dati che da una parte fotografano l'esistente un esistente che credo ci mostra molti divari e molte differenze tra le regioni italiane sull'istruzione e poi appunto non so se rispetto ai LEP ha fatto appunto degli scenari cosa succede se come dire spingiamo il cuore oltre l'ostacolo e finanziamo qualche LEP in più in istruzione prego grazie allora Floriana mi ha chiesto di affrontare il tema potete anche partire con le slide guarda degli aspetti finanziari legati al DDL sull'autonomia per quanto riguarda appunto il tema dell'istruzione io riprenderò alla fine molti dei temi che sono stati trattati fino ad ora perché hanno colto tanti aspetti importanti lo farò però da un punto di vista in qualche modo diverso appunto dal punto di vista della natura finanziaria degli aspetti rilevanti sotto il fronte finanziario la prima considerazione dalla quale parto è quello che il DDL sull'autonomia differenziata è una proposta molto sintetica che coglie una serie di punti e le affronta in modo molto esplicito molto chiaro è stata accompagnata anche da una quantità di audizioni e da l'istituzione della commissione LEP che ha dato luogo effettivamente a un ampio dibattito e il confronto tra diverse posizioni che ha portato una riflessione in qualche modo un contributo importante sulla riflessione e anche una rivisitazione delle posizioni della regione che per quanto ovviamente influenzata politicamente però rispetto a quello che erano le prime posizioni del primo momento sembra più differenziata e più ragionevole ciò non toglie che appunto la riforma abbia una serie di incoerenze di punti critici su cui vorrei intervenire cosa vuol dire cos'è la materia dell'istruzione abbiamo già è stato detto che la materia dell'istruzione è stata già oggetto di un'ampia devoluzione qui presento le materie delle istruzioni così come trattate in ambito l'EP ne ha già parlato Anna diciamo che oggi lo Stato determina gli standard di offerta del servizio educativo ed eroga pagamenti per il personale docente mentre viene lasciato agli enti locali sia l'aspetto della programmazione che viene passata alla regione sia l'offerta che passa ai comuni e alla città metro volendo dare un inquadramento di cosa questo possa voler dire dal punto di vista finanziario nella prossima slide vi faccio vedere l'articolazione della spesa per livello di governo e quindi qui vediamo che l'importo complessivo è di circa 53 miliardi di spese almeno così come ricostruita attraverso i conti pubblici territoriali che danno il consolidato della spesa per livello di governo larga parte di questa il 70% riguarda la spesa per il personale le amministrazioni locali e regionali intervengono quindi con il 30% della spesa complessiva quindi hanno già dal punto di vista finanziario una serie di competenze competenze importanti per quanto la spesa del personale come sappiamo è in larga parte anzi completamente sotto l'amministrazione centrale quindi gestita dall'amministrazione centrale possiamo andare avanti cosa vuol dire qual è la presenza dello Stato e dei diversi livelli di governo sul territorio qui vediamo la differenza tra l'amministrazione centrale la spesa per studente dell'amministrazione centrale sull'asse delle X e delle amministrazioni locali sull'asse delle Y noi vediamo naturalmente che alcune regioni il ruolo prevalente è quello del centro lo vedete cerchiato in rosso sulla destra altre regioni invece è presente anche una funzione più importante cioè il decentramento ha avuto un ruolo più importante per quanto è stato attuato fino ad ora abbiamo una spesa locale più significativa naturalmente può essere dovuta alle scelte di policy alle scelte di politica può essere dovuta alle maggiori risorse sul territorio che consentono effettivamente di accedere a un'offerta anche di assecondare una richiesta di servizi locali sul territorio la norma interviene la proposta di riforma interviene quindi pone al centro diciamo l'elemento del dibattito grosso si è sviluppato intorno ai livelli essenziali delle prestazioni sostanzialmente i livelli essenziali delle prestazioni dovrebbero essere prevedere la norma garantiti per tutte le materie e per tutte le regioni quindi sembra anteporre in qualche modo l'attuazione del federalismo più tradizionale a quello delle autonomie l'obiettivo è quello della copertura del fabbisogno standard cioè dei livelli essenziali per il costo standard di riferimento questo però è un obiettivo costoso fabbisogno standard può essere maggiore del budget disponibile noi siamo un paese con forti vincoli di bilancio come sappiamo e quindi il fabbisogno standard può essere prevaricare essere superiore al budget disponibile cosa succede in questo caso in questo caso non siamo in grado di offrire le app previste sul territorio quindi le app non vengono garantite in modo uniforme oppure i costi standard non vengono coperti è ovvio che più a rischio sono le realtà economiche con minore capacità fiscale nelle aree con maggiore capacità di reddito possono invece accedere alla disponibilità dei cittadini e quindi richiedere l'intervento dei cittadini questa ipotesi del fatto che il bilancio possa e il vincolo di bilancio possono essere superiori ai fabbisogni quindi alla copertura dei livelli essenziali dei servizi e dei loro costi non è fantasia perché quanto abbiamo riscontrato in più occasioni l'abbiamo riscontrato in sanità e io ora ne parlo per quanto riguarda invece all'interno dell'istruzione per il DSU il diritto allo studio diversitario che è stato studiato più approfondito recentemente può andare è una materia completamente devoluta alle regioni quindi le regioni possono intervenire largamente su questa materia a seguito di un indirizzo da parte del governo che dovrebbe determinare appunto il LEP è previsto che determinasse quindi individuasse i livelli essenziali da garantire su tutto il territorio attraverso un'indagine questo non è mai stato fatto di fatto così come in sanità anche nel livello anche in questo capitolo in questo specifico dell'ambito istruzione del DSU il diritto allo studio universitario la legge di bilancio determina l'importo da corrispondere alle regioni per l'attuazione di questa misura e lo fa quindi in sede di regolamento di natura finanziaria quindi separatamente da quelle che sono gli effettivi fa bisogno sul territorio in realtà fino ad oggi quindi il riparto tra le regioni avviene sulla base della spesa storica quali sono le altre due componenti che intervengono la tassa regionale quindi quanto pagano gli studenti e l'integrazione da parte delle singole regioni ecco che le regioni devono intervenire poi andare avanti con importanti risorse per compensare la domanda che proviene dal territorio e qui abbiamo da un lato un altro grafico vi mostro da un lato la domanda e il bisogno in termini di borse su iscritti quindi le regioni che offrono più borse per ogni iscritto sono le regioni la Calabria la Puglia la Sicilia dove c'è un'alta domanda e risorse locali alla fine quindi intervengono comunque superando di gran lunga quelli che sono gli stanziamenti nazionali che avrebbero dovuto essere ben più alti ma comunque devono ricorrere ai propri territori e lo possono fare fino ad un certo punto a sinistra troviamo la Lombardia e il Lazio lassù in alto dove le risorse del territorio invece sono molto alte e quindi hanno relativamente improporzionalmente una domanda meno un bisogno meno alto di quanto non sia in altre regioni e hanno invece la possibilità di ricorrere non tanto allo sforzo finanziario delle regioni stesse quanto a sistema di fiscalità quindi le tasse più significativo se garantire l'app su tutti i territori è costoso non vuol dire che applicare i livelli essenziali delle prestazioni solo in alcune regioni nel nostro caso quelle che chiedono la differenziazione sia una scelta percorribile perché questo sarebbe ovviamente iniquo che io garantisco i servizi soltanto in alcune aree e in altre aree no quindi questo non è possibile e va escluso nello stesso tempo anche un taglio trasversale ai LEP quindi dire va bene abbasso tutto ciò che garantisco in modo proporzionale a diversi territori non è equo perché ci sono come abbiamo visto territori che hanno più disponibilità e territori che ne hanno di meno dal punto di vista della disponibilità a pagare della capacità di contribuire da parte dei cittadini quindi anche un taglio trasversale a LEP non è diciamo eco e accettabile una possibile una possibile alternativa o comunque una possibile scorciatoia è quello di ricorrere ai costi medi cosa che peraltro non è stata fatta cosa vuol dire ricorrere ai costi medi vuol dire che mentre oggi vuol dire mantenere il vincolo di bilancio e appiattire le necessità delle differenze territoriali mentre ora il ministero possiamo ammettere possibilmente ricorrere interviene in diversi territori assecondando le necessità assecondando i costi asseconda appunto del personale docente della loro anzianità della componente di personale non docente densità demografica e quant'altro il costo medio ovviamente appiattisce completamente queste differenze territoriali compreso anche ad esempio la diversa anzianità della popolazione in questo caso si verificherebbe e lo vedete nella cartina un forte trasferimento di risorse dal meridione che effettivamente oggi ha un costo più alto pro capite verso le aree delle regioni del nord appunto quelle che chiedono autonomia che effettivamente oggi hanno un costo medio più basso delle loro attese quindi questa è un'ipotesi che allontana si allontana dall'assetto attuale ma anche da bisogni dei cittadini quindi individuare nei costi medi una possibile alternativa più facile più semplice più rapida e che mantiene fede ai vincoli di bilancio aggregati anche questa non è una stada che è stata percorsa ma non è una semplificazione oggi possibile le clausole finanziarie peraltro in un altro articolo della normativa prevede che non devono derivare oneri finanziari per la finanza pubblica complessiva quindi non c'è non si deve verificare un maggior costo per il complesso dell'amministrazione pubblica e rimangono invariate anche le risorse finanziarie per le regioni che non fanno richiesta di autonomia questo di fatto vuol dire che se il 70% delle regioni non richiedono autonomia e devono rimanere con la spesa storica anche il budget complessivo è lo stesso vuol dire che anche quelle che richiedono autonomia avranno un vincolo di braggio quindi sostanzialmente l'ipotesi plausibile che rimane è quella della spesa storica cioè le regioni alle regioni viene assegnato quello che sostanzialmente lo Stato prendeva precedentemente in quei territori questo cosa vuol dire vuol dire che le regioni che contano su una capacità di di azione migliore non delle altre regioni ma del governo che interviene sul loro territorio allora quelle plausibilmente potranno chiedere si troveranno nelle condizioni è un po' quello che diceva se non mi sbaglio Floriana chi è o forse Anna chi è che può quando parlava di motivare le proprie richieste è ragionevole che uno chieda autonomia quando pensa di avere degli spazi per far meglio o di quanto non faceva ripeto non le altre regioni perché qui non vengono discusse le altre regioni ma di quanto lo fa lo Stato centrale quindi il confronto è sbagliato con quello delle altre regioni è corretto invece con l'azione dell'amministrazione centrale su questi territori l'altro aspetto naturalmente che io chiederei maggiore autonomia nel caso che poter contare su una maggiore capacità fiscale perché non solo c'è l'efficienza quindi la capacità di offrire servizi maggiori rispetto all'attuale altrimenti su questo mi confronterei con i cittadini e di questo devo rispondere ai cittadini però anche una base fiscale che mi dà maggiore flessibilità e quindi insomma sono più disinvolto nell'eventuale richiesta da questo punto di vista qui vi mostro anche qualche cifra dovendo parlare di misure finanziarie e quindi quanto è la spesa statale regionalizzata del servizio istruzione nelle tre regioni che richiedono autonomia secondo appunto questa fonte la RGS la spesa senza istruzione vediamo che è una media che va dai 2 miliardi Emilia Romagna e Veneto ai 5 miliardi alla Lombardia al netto dell'istruzione gli importi di cui stiamo parlando ovviamente aggregati al di là di poi misurazioni più precise che verranno sicuramente ci auguriamo fatte si parla appunto di importi che vanno tra i 400 mila euro delle Emilia e del Veneto agli 800 della Lombardia anche se anche parlare soltanto di trasferimento delle competenze quindi delle amministrative ipotizzando che venga mantenuto la spesa storica quindi non ci siano cambiamenti nel punto di vista delle risorse complessive anche ipotizzando questo aspetto non è meno complicato non è meno pregnante se volessimo soprattutto se volessimo tenere dentro effettivamente come era nelle richieste anche la voce personale perché ovviamente quella coinvolge una quantità di insegnanti docenti persone tanto nel mondo della scuola quanto nella sanità quello che volevo però comunque in qualche modo richiamare è che effettivamente il mondo del pubblico impiego e dell'istruzione in particolare soffre di alcune difficoltà strutturali che andrebbero in qualche modo affrontate e che forse in qualche modo sono anche dietro le richieste della regione se noi vediamo che i supplenti sono il 30% del personale della pubblica amministrazione in Lombardia quasi il 50% molti sono per periodi inferiori all'anno e molti di età molto avanzata quindi ci sono anche alcuni problemi che effettivamente per tutte le regioni e per tutti gli studenti del paese andrebbero affrontati l'articolo numero 5 invece interviene sul finanziamento degli spazi di autonomia abbiamo parlato delle compartecipazioni quindi si prefigura l'aspetto delle compartecipazioni lo diceva già che è intervenuto prima qui lo vediamo in termini misurati diciamo tra virgolette nel senso è vero che la copertura la capienza quindi da parte delle diverse regioni è diversa vediamo che la percentuale di IRPEF qui facciamo il confronto con l'IRPEF che potrebbe essere trattenuta richiesta dalle regioni per finanziare la sanità è più alta nel sud dove hanno appunto una capacità fiscale più alta quindi sostanzialmente nel sud ci vuole il 40% dell'IRPEF versata in loco mentre nelle altre regioni il 20% basta è chiaro che questo genera degli spazi di autonomia molto differenti nelle varie aree del paese il vero la vera questione o comunque la questione più rilevante di tutte secondo me comunque quella che vorrei sottolineare di più riguarda le misure perequative sul tema delle misure perequative e la proposta di riforma a me sembra piuttosto carente non soltanto a me naturalmente è decisamente carente non affronta questo tema lo affronta in un modo insomma non completo eppure la misura perequativa è l'altra gamba del federalismo lo sappiamo non esiste l'EP o comunque non è corretto parlare di LEP di garanzia di servizi sul territorio se non accompagnati da misure perequative che consentono che pareggiano la capacità fiscale sui territori quindi consentono alle diverse regioni anche di accedere ai servizi ex-LEP quindi è una gamba del sistema dalla quale non si può prescindere e invece appunto il DDL su questo appare appare piuttosto evasivo affronta il tema ma in modo non completo e non soddisfacente può andare avanti questo perché da un punto di vista perché non esiste più una fiscalità regionale che possiamo definire fiscalità regionale l'IRAP non c'è più quando parliamo di sostituire l'IRAP con altre fiscalità ad esempio l'IRAP come vi faccio vedere qui sono fiscalità che sono molto più concentrate territorialmente perché riguardano le società di capitali quindi sono molto più concentrate in alcune aree del paese e questo cosa determina che in teoria gli scambi e quindi la perequazione dovrebbe essere ancora maggiore gli scambi e i trasferimenti orizzontali potrebbero essere ancora più rilevanti e ancora più preoccupanti l'altro aspetto che volevo richiamare è quello che è stato richiamato anche in altre occasioni da persone più illustri di me e più competenti di me che tra le motivazioni originarie della richiesta dell'autonomia c'è anche quella di intervenire sugli strumenti su una ridistribuzione interregionale che era giudicata originariamente e tuttora molto favorevole alle regioni meridionali rispetto alle altre confondendo sostanzialmente due principi molto diversi uno è la ridistribuzione che venne fatta a favore dei soggetti più deboli attraverso trasferimenti monetari di servizi l'altro trasferimenti tra regioni che riguardano il fatto che questo tipo di popolazione più debole più fragile è concentrata territorialmente ma questo sono comunque trasferimenti che riguardano le persone che non riguardano le amministrazioni quindi la domanda più corretta è come offrire migliori servizi di quelli che vengono offerti attualmente l'ultima considerazione e qui chiudo conclusiva diciamo è che il decentramento dovrebbe ha come suo razio finale quello comunque di assecondare e favorire le differenze territoriali questo ovviamente è la natura della cosa i vincoli di bilancio dai quali non possiamo prescindere quindi il fatto che sostanzialmente debba essere fatta senza risorse vuol dire che c'è il rischio che queste differenze territoriali diventino invece delle disparità territoriali e questo è tanto più vero se non si affronta e si trascura completamente il tema della pericazione e con questo vi ringrazio dell'attenzione grazie grazie mille insomma anche questi dati ci sono stati molto d'aiuto io aprirei il dibattito se c'è qualche domanda da parte di chi è qui in aula mentre non è previsto credo che chi ci sente in remoto non può intervenire però appunto ci sono ci sono domande possiamo fare un po' di dibattito circa una decina di minuti di tempo l'abbiamo io avrei subito però una domanda ne approfitterei dei colleghi giuristi che sono qui al tavolo e anche appunto alcuni li vedo tra il pubblico mi sembra di aver capito che insomma voglio dire pensare di regionalizzare l'istruzione è un po' fra virgolette passatemi il termine sarebbe una sciagura mi chiedo nel caso in cui si fanno delle intese in cui invece si prevede il passaggio dell'istruzione come in fondo appunto chiedevano nelle preintese Stefani la mia domanda è la corte costituzionale può intervenire oppure no cioè le leggi di intese sono passibili le leggi che recepiscono queste intese sono passibili di giudizio dalla parte della corte costituzionale oppure niente una volta conclusa l'intesa come dire la partita è finita dunque il tema è da un lato teorico su cui secondo me si può rispondere tranquillamente di sì perché non so ai sensi dell'articolo 134 della costituzione la corte costituzionale giudica della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti a venti forza di legge questa a tutti gli effetti è una legge no? e vabbè però in ogni caso infatti noi queste le chiamiamo le leggi rinforzate perché in realtà la legge deve essere approvata a maggioranza assoluta sulla base di un'intesa però è sempre una legge dal punto di vista del sistema delle leggi costituzionale oggetto quindi secondo me dal punto di vista teorico non credo che ci sia nessuna difficoltà a sostenere che la legge che recepisce l'intesa può andare davanti alla corte costituzionale il tema è chi ce la porta perché secondo me il punto vero è come ci arriva davanti alla corte una legge di questo genere perché il punto è quello come ci arriva e qual è il parametro di che viene fatto perché questo non è un discorso più teorico perché dipende da che cosa prevede quel trasferimento perché tu per portare la questione davanti alla corte ci devi avere un parametro della costituzione che è violato e quindi bisogna vedere anzitutto che cosa prevede quella legge come trasferimento e quindi questo secondo me è un punto fondamentale poi i meccanismi nostri prevedono che vabbè prevedono che però questo sarebbe un controsenso cioè che quella legge può essere anche impugnata in via principale dallo Stato o dalle altre regioni volendo quindi in questo caso è in questo caso però lì bisogna vedere che meccanismi scattano fra le regioni quindi una cosa è che va davanti alla corte in via principale altra e diversa cosa è che ci deve arrivare in via incidentale cosa che io trovo un pochettino più complicato sicuramente in via principale ci può arrivare davanti alla corte difficilmente impugnata dallo Stato perché se lo Stato ha fatto l'intesa con la regione poi come fa ad andarlo impugnare davanti alla corte sembra un po' curioso anche perché ci sono i teri mentre certo le altre regioni lo possono fare quello però diventa più che un problema giuridico secondo me un problema politico perché a quel punto è evidente che se facciamo l'ipotesi che a me viene più normale le intese veramente le chiedono le tre regioni quelle che le hanno sempre chieste e chiedono davvero tutto come hanno sempre fatto è chiaro che a quel punto potrebbe scattare un moto di reazione da parte delle altre regioni però è una questione secondo me più politica che giuridica costituzionale in linea teorica secondo me ci possono andare tranquillamente davanti alla Corte per la Corte sarebbe un bel problema perché si troverebbe ad affrontare per la prima volta delle questioni che non sono questioni di così facile soluzione secondo me anche proprio dal punto di vista pratico poi ci sono bene altri esperti essendovi vale anche per i costituzionalisti spesso la cosa che si dice di altri professionisti che se ci sono cinque costituzionalisti hai almeno sei opinioni quindi qui siamo un terzo numero e potremmo avere più opinioni in realtà rispetto alla domanda che hai fatto non c'è molta differenziazione possibile perché che la legge attuativa del 116 terzo comma relativamente alle singole regioni sia oggetto di sindacato da parte della corte non ci piove il modo con cui farla diventare oggetto del sindacato è vario perché in realtà anche in via incidentale non è impossibile immaginare tanto più che stiamo parlando di una richiesta che concerne tutto l'ordinamento che poi si potrebbe sorridere ulteriormente perché stiamo parlando nello stesso tempo di una revisione costituzionale che serve a eleggere un capo e quindi a dare più potere al capo che è statale e nello stesso tempo stiamo parlando di una attuazione del 116 terzo comma confermata dall'ultimo articolo del disegno di legge cosiddetto Calderoli che recupera le preintese che chiedevano tutto e dunque noi stiamo togliendo tutto allo Stato quindi si potrebbe anche sorridere su questo ma questo ci porterebbe su altri su altri lini in realtà sia in via incidentale data l'estrema larghezza di possibilità di un contenzioso relativo a un servizio non erogato erogato in modo diverso davanti al giudice amministrativo soprattutto ecco quindi ma anche in via come diceva Anna in via principale tanto più se come a questo lo vorremmo sentir dire dagli economisti questa previsione della neutralità finanziaria sia tecnicamente molto difficile oltre che giuridicamente necessitata ma tecnicamente molto difficile è evidente che ci sarebbe anche un profilo di interesse delle altre regioni a ricorrere perché appunto anche l'interesse a ricorrere in questo caso rileverebbe dunque ci sarebbe anche quello da esaminare però ecco credo che ci siano altre questioni giuridiche costituzionali prima di arrivare a quel momento ecco magari nel corso del pomeriggio le vedremo insieme il professor Peino il professor Peino vuole fare una domanda io mi do in danza io mi do in danza però sai in questa letta è grossa ma questo è interessante che capisci esattamente di cosa possono hanno diritto le virgolette perdonate le virgolette di ammintarsi le regioni altre di l'importanza delle rette della preparazione è centrale per la punti per le persone che non deve essere portate la loro possibilità di per la situazione è come dire un meccanismo che si garantisce se fissero le e facciamo funzionare il punto per il quindi sicuramente come dire l'interesse c'è le competenze sono le aese può essere attaccata alle differenze su questo aspetto poi singola funzione o più di sicuramente quello perché ci può essere un difetto come dire principale per perché la lenta diciamo la lezione di content per sentire il decimale tutto è censurabile ovviamente tramite come dire faccio un esempio censuramento scolastico non c'è non c'è che cosa avevamo fatto la individuazione dei di scolastici può impugnare via amministrativa l'atto della norma l'atto di esercizio della funzione trattività e per quella via richiede la legge di differenzazione che assegna la funzione alla lettera la difficoltà che questo accesso consente soltanto censure puntuali perché io ovviamente posso come dire contestare la legge costituzionale quella norma non del meccanismo contesto quindi sì ma ho finito comunque ok io ho finito ok qualche altra domanda per favore si deve anche presentare io mi chiamo Enrico Dali sono a sinistra di ricerca in diritto costituzionale faccio una domanda di cui per esempio se si facesse un'iniziativa di referendum abrogativo ovviamente essendo una legge rinforzata il referendum abrogativo non è ammissibile ma se si chiedesse un referendum abrogativo magari cinque consigli regionali delle regioni che vengono escluse chiedessero l'abrogazione per esempio della legge Calderoli che disciplina poi la legge rinforzata sulla base dell'intesa che cosa è un altro un altro problema di cui non so cosa la risposta nonostante che così in queste settimane alcuni costituzionalisti abbiano espresso opinioni un po' extravaganti in senso tecnico sul punto si tratta di una legge ordinaria che non rientra né nelle esclusioni del secondo coma dell'articolo 75 non trattandosi di una legge di amministra indulto finanziario di bilancio o di autorizzazione di trattati internazionali né nelle cause di inammissibilità individuate dalla Corte nella sua lunga giurisprudenza sul primo punto perché ancorché collegato alla legge di bilancio evidentemente non è l'autoqualificazione che fa diventare legge di bilancio sul secondo punto perché ancorché l'atto senato 615 possa essere considerato una legge di attuazione del 116 terzo coma o per facilitarne l'attuazione l'articolo 116 terzo coma non non prevede una legge di attuazione quindi una legge che sia costituzionalmente necessaria è stato valutato di ricorrere allo strumento legislativo penso che chi l'ava valutato abbia anche calcolato le conseguenze questa si tratta è una legge certamente sulla quale può essere richiesto da parte degli aventi diritto quindi o 500.000 elettori o 5 consigli regionali un referendum abrogativo brevissimamente perché mi ha fatto venire in mente il professor Balduzzi e lo dico ai più giovani che il senatore Calderoli quando ha promosso l'adozione della legge 270 del 2005 legge elettorale l'ha chiamata porcellum la corte costituzionale la dichiarata incostituzionale con la sentenza numero 1 del 2014 punto grazie se non ci sono altre domande io passerei alla seconda parte adesso discutiamo del tema salute iniziamo con la relazione del professor Balduzzi e poi ci sarà il professor Pisauro prego Renate grazie alla professoressa Floriana Cereniglia grazie all'istituto Sturzo al suo presidente il professor Antonetti al Cranec alla sua direttrice per questa opportunità di di solito i professori dell'Ateneo dove si svolge un incontro scientifico non fanno i relatori però qui evidentemente gli organizzatori hanno valutato che si potesse fare una una deroga ad un ad una prassi che è abbastanza consolidata il mio intervento si dividerà in due parti una prima parte alcune considerazioni generali proprio sull'autonomia differenziata che sono la premessa poi per la seconda parte in cui entriamo evidentemente nel campo della tutela della salute è una vicenda quella della simmetria o della differenziazione si può usare tante espressioni che certamente non è partita mai bene ecco non è partita bene con il terzo comma dell'articolo 116 troppe ambiguità le oscurità forse una ridotta carenza di ponderazione che si univa alla volontà di far fronte a esigenze politiche territoriali contingenti ecco noi citiamo sempre costituzionalisti l'opinione del professor Leopold Delia che concorse ai lui alla confezione del nuovo titolo quinto ma che appunto tutte le volte che aveva occasione di parlare con noi di queste cose alzava gli occhi al cielo o le abbassava per terra ecco perché proprio era nel titolo quinto rinnovato nel 2001 ci sono anche alcune singolarità ulteriori specialmente nel terzo comma dell'articolo 117 che hanno costretto la corte costituzionale a qualche diciamo iniziativa di prestidizzazione però ecco certamente il 116 terzo comma è forse quello più problematico perché se preso alla lettera oddio se preso alla lettera probabilmente si potrebbero dire tante cose ma non vengono dette si dice ma se prendiamo alla lettera e alla lettera dobbiamo attuarlo io alla lettera ci leggo una facoltà perché mentre il primo comma dell'articolo 116 dice che le ragioni a statuto speciale nominativamente indicate dispongono di forme condizioni particolari di autonomia e il presente in un testo normativo tanto più costituzionale vuol dire che devono disporre secondo i rispettivi statuti costituzionali per quanto riguarda il terzo comma si dice che ulteriori forme condizioni particolari di autonomia possono essere riferite ad altre regioni non alle altre ad altre se andiamo sulla lettera ho l'impressione che in questo interesse sul 116 terzo comma fin dall'inizio ci sia una sorta di vizio tra favorevoli e contrari e quindi forse se riusciamo a stare un pochino più più freddi non è facile perché il tema è appassionante ecco forse anche sulla lettera ci sarebbero tante cose da dire anche su quell'ulteriore ulteriore appunto sono tante cose da dire ma dicevo è partita male ma poi ha continuato a muoversi malamente perché se penso alla vicenda dei due referendum regionali che hanno rimesso in movimento la complessa vicenda del referendum Veneto su cui probabilmente una qualche benevolenza della Corte non le poteva essere meglio ponderata ma anche il quesito referendario Lombardo era molto problematico perché faceva vedere una differenza tra il profilo tecnico-giuridico e quello politico Cosito Lombardo diceva lo ricordiamo tutti per via della specialità della regione dove specialità voleva dire beh tutte le regioni sono diverse noi siamo speciali perché siamo lombardi come sono speciali piemontesi calabresi però specialità vuol dire una cosa dal punto di vista giuridico-costituzionale più precisa oppure quell'inciso con le relative risorse nel quesito Lombardo che appunto era un modo per alludere al tema del residuo fiscale pacificamente senza cittadinanza nell'ordinamento costituzionale italiano ma appunto cioè l'ambiguità di questa vicenda non parliamo poi delle cosiddette preintese un po' cantacombali come è già stato diciamo sottolineato sia da Floriana sia da Anna a qualche giorno dalle elezioni politiche nazionali e che hanno in qualche misura certamente è complicato il quadro perché perché da quella vicenda venne fuori l'idea che la contesa sia fra chi vuole l'autonomia e chi non la vuole che invece pacificamente non è così proprio perché l'autonomia regionale rappresenta un principio strutturale del nostro sistema quello della differenziazione di questa autonomia delle regioni è tutto ordinario è un principio eventuale del nostro sistema se possibile poi la vicenda si è peggiorata negli anni successivi nel 2018 19 una sorta di corsa quasi quasi grottesca una specie di assalto alla diligenza statale dove c'era chi chiedeva 23 materie chi 24 chi 16 chi 17 alcune richieste è anche difficile qualificarle pensiamo alle richieste che venivano da regioni da anni con responsabilità di tanti e non soltanto del livello territoriale interessato caratterizzate da condizioni di insufficiente capacità di prestare determinati servizi in alcuni in alcuni settori che chiedevano più autonomia in quello stesso settore quindi in qualche misura vicende che è difficile anche solo ripercorrere senza sorridere ma è un sorriso amaro perché qui ne va di mezzo come opportunamente ricordava la professoressa Poggi relativamente alle due materie oggetto oggi di un approfondimento ne va di mezzo la cittadinanza l'idea di nazione lo stare insieme in una in una in una collettività nazionale e anche la rimeditazione che sempre per fare la storia di questa vicenda più recente cioè governi cambiati tra il 19 e l'inizio del 20 dove si comincia a immaginare una legge quadro e beh anche anche in quel caso beh forse ecco a parte che quella allora prevista era una sorta di 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 il cocervo cioè una specie di momento intermedio fra un testo recante delle linee guida e una circolare interna agli uffici della presidenza del consiglio ma certamente non chiariva il rapporto tra livelli essenziali delle prestazioni obiettivi di servizio e tra gli obiettivi di servizio e i farbisogni standard insomma una vicenda una vicenda che ha sempre visto dei momenti faticosi poi è arrivata la pandemia il clima è temporaneamente mutato sembrando a molti inadeguato l'assetto regionalistico in campo sanitario a fine di contrastare le conseguenze del virus e poi non appena la pandemia ha iniziato una lenta marcia verso l'ospicata endemia si ritorna alle preintese del 2018 storia magistra vite ogni tanto è così ma spesso e volentieri evidentemente non è così e poi e poi e poi l'atto senato 615 dove effettivamente noi notiamo alcune problematicità talune sono già emerse altre sono rimaste più sullo sfondo beh anzitutto una oscillazione credo che dal punto di vista di un seminario promosso dall'istituto Sturzo professor Antonetti sia importante stare anche su questi su questi diciamo profili di carattere generale e culturale no un'oscillazione sulla nozione di autonomia accolta perché l'articolo 1 del testo approvato al Senato impone è molto è molto prolisso ecco c'è una specie di condensato di tante cose che stanno scritte nella Costituzione nella legislazione ma mi ha colpito sempre una cosa che c'era già all'inizio il rispetto dei principi di indivisibilità e di autonomia scritti proprio così no ora i costituzionalisti italiani tutti i costituzionalisti italiani e anche gli studenti e i laureandi dei suddetti conoscono bene un passaggio di un grande costituzionalista novecentesco Carlo Esposito diceva nell'articolo 5 il principio è l'autonomia il limite è l'unità è l'indivisibilità cioè principio e limite non possono stare sullo stesso piano perché diventi sono due principi da bilanciare non è così il limite non è bilanciabile il principio e se io lo metto sullo stesso piano denoto una concezione dell'autonomia probabilmente non in linea non in asse con la costituzione per non dire poi della delega sui LEP perché è una delega per carità la nostra legislazione ci ha abituato come dice il nostro amico all'elasticità della delega però in questo caso è un'elasticità veramente perché l'articolo 3 comma 1 di questo progetto di legge fa riferimento cioè richiama come principio i criteri direttivi per i decreti legislativi che dovrebbero contenere i LEP su questo mi viene da sorridere istintivamente perché è come attestare una sorta di fatica nel comprendere che cosa sono i livelli essenziali delle prestazioni ma ci torniamo su questo l'idea che un decreto legislativo li possa contenere ma i principi criteri direttivi si fa rinvio e questo è ammesso dalla giurisprudenza costituzionale non ai contenuti nell'atto 615 ma alla legge di bilancio per 197 la legge di bilancio per il 23 legge 197 del 2022 commi 700 insomma prima o poi la Corte Costituzionale dovrà mettere l'occhio su questo fatto articolo 1 comma 40.000 perché effettivamente è un'anomalia ma se uno va a leggere quei commi e non li trova però i principi criteri direttivi sono procedurali quando va bene individuano l'oggetto ma i principi criteri direttivi francamente non ce ne sono sempre l'atto senato 615 e questo è interessante anche alla luce di quello che abbiamo un po' detto tutti sinora in qualche modo riscrive il 116 terzo comma perché perché parla di funzioni articolo 1 comma 2 di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia relative non è un errore mio è scritto così di solito i miei laureandi si scrivono due volte la stessa parola in due righe diverse e lì è andata così probabilmente e non gliel'ha detto nessuno non lo so come sia adesso è troppo facile fare ironia il legislatore il legislatore è fare il legislatore è un brutto mestiere in un in un sistema così legificato come il nostro ecco poi chi parla ha fatto anche quello con tante giacche diverse quindi non posso certo ironizzare troppo sul legislatore però certo che insomma di queste su queste cose un po' più di attenzione è sempre auspicabile relative a materie o ambiti di materie riferibili cioè come dire il legislatore è consapevole che il 116 così com'è va interpretato se va interpretato bisogna però interpretarlo ecco non interpretarlo com'era che la legge si interpreta per gli amici e si applica per i non amici ecco bisognerebbe mettersi un po' un po' d'accordo e anche il rapporto tra i LEP e le risorse finanziarie qui è il quarto e il settimo comma per i curiosi dell'articolo 3 introduce un elemento importante problematico la congruità tra prestazioni da erogare risorse messe a disposizione e poi l'aggiornamento dei LEP in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili c'è un piccolo problema che anche alla luce della giurisprudenza costituzionale ma la dottrina l'aveva con riferimento alla sanità detto da vent'anni da più di vent'anni almeno 25 c'è un nucleo incomprimibile dei livelli essenziali che non può essere messo a bilanciamento con le risorse disponibili e infatti la riforma sanitaria del 99 imponeva contestualmente l'individuazione dei livelli e delle risorse dentro evidentemente il quadro complessivo della finanza pubblica ma non perché scritto in questo modo vuol dire che il decisore politico liberamente disponendo di risorse liberamente condizionerà i livelli essenziali non è il nostro ordinamento costituzionale è un altro ordinamento costituzionale può piacere di più può piacere di meno ma è un altro ordinamento costituzionale per non dire poi di quell'ultimo articolo quello che recupera le preintese del 2008 perché lì siamo davvero in presenza di un'operazione ora per allora che si giustifica malamente alla luce dei contenuti del 615 insomma sul DDL 615 si potrebbero davvero fare tante considerazioni alcune è vero che quella cattiva partenza aveva radici antiche sempre i nostri studenti ricordiamo che un grande amministrativista ma in realtà era un grande pubblicista del secolo scorso Massimo Severo Giannini alle prese col titolo quinto vecchio testo disse una pagina bianca con sopra scritto regioni Giannini amava il paradosso non è vero non era una pagina bianca c'erano delle indicazioni ben precise ad esempio quella secondo cui il parallelismo delle funzioni legislative e amministrative è un'indicazione ben precisa però certamente dava l'idea di una incompiutezza e infatti poi ci sono state valutazioni molto molto divaricate tra gli studiosi la riforma del titolo quinto non riuscì naturalmente a sciogliere i nodi che il regionalismo anche sulla scia dell'esperienza talora problematica delle regioni ad autonomia speciale aveva nel frattempo prodotto sto pensando naturalmente alla dimensione territoriale delle regioni al loro numero al perdurante regime di specialità su cui bisognerà aprire una discussione perché se no se non si apre una discussione poi le manine notturne penso a una manina notturna che 7-8 anni fa aveva inserito all'ultimo minuto in una legge costituzionale importante poi non approvata non confermata dal referendum confermativo una norma che faceva diventare regioni ad assoluto speciale stati liberi e sovrani dico bene Simone ecco no guardo al professor Paino perché viene come anche il professor Patanè da una regione ad autonomia speciale quindi insomma in qualche modo parlo sotto il loro controllo ecco va bene a ricomporre il quadro probabilmente non aiuta l'assenza di una disaggregazione a livello costituzionale delle cosiddette materie in submaterie o meglio ancora in complesso di oggetti ma questo è un ragionamento molto molto delicato perché ci porterebbe a fare i confronti ad esempio tra la tecnica di redazione degli elenchi di materia che abbiamo noi rispetto a quella della Repubblica federale tedesca e lì lì si va nei dettagli noi abbiamo una tecnica che per certi versi può essere commendevole ma che su questi cioè è commendevole nella misura in cui poi però la applichiamo a tutte se noi astraiamo il 116 terzo com e lo facciamo diventare la norma base di tutto l'ordinamento e poi l'ordinamento implode evidentemente non si può pensare a una cosa diversa cioè la politica qualche volta dovrebbe ammettere di avere bisogno di una certa coerenza poi abbiamo tutto ciò che non abbiamo attuato perché certamente il cosiddetto federalismo fiscale forse chiamarlo così non ha aiutato nell'attuazione ma i problemi della perequazione territoriale quella la penultima slide della professoressa Lattarulo parlava da sola ecco in qualche modo no beh andrebbero naturalmente affrontati ma per affrontarli ci vuole un centro autorevole dove l'autorevolezza si gioca anche nei confronti dei territori regionali c'è un centro politico autorevole se penso e così cominciamo lentamente a scivolare nella sanità se penso agli anni della pandemia agli anni più forti della pandemia e soprattutto alla cosiddetta nuova assistenza territoriale in sanità e al modo come dire quasi quasi rinunciatario con cui il centro nazionale sta gestendo l'attuazione del PNRR e la nuova assistenza territoriale in sanità certamente non c'è da guardare ancora in questi giorni leggevo un bell'articolo credo di Boeri e un altro dove si mettevano in fila i numeri del piano nazionale di ripresa e resilienza dicendo ma con quelle risorse incredibili ma davvero si poteva rivoltare come un calzino non solo il paese ma soprattutto la sanità e l'impressione è che altro che occasione perduta ecco debiti contratti perché abbiamo avuto tanto di regalato ma anche tanto di prestato e se non facciamo certe cose poi torna tutto adesso poi che non si vogliono più i governi di tecnici non lo so chi potrà ecco qualora ci fossero davvero dei problemi come ecco chi potrà risolvere e cavare le castagne dal fuoco in questo paese comunque certamente eh il ragionamento che eh ci riguarda è per forza di cose un ragionamento che rimando al testo scritto per altre per altre questioni eh prima di eh concentrare sulla salute proviamo a farci una domanda di fondo ma perché questa eh nel silenzio del 116 come è stato opportunamente detto perché questa eh scommessa sui cosiddetti LEP eh ho provato a esercitarmi eh perché è una domanda che mi è venuta solo negli ultimi tempi quindi ho scritto tante cose in materia ma beh almeno tre sono le ragioni perché è uno strumento per limitare i danni che l'interpretazione del 116 terzo coma potrebbe provocare eh norme generali sull'istruzione ma anche lo riprenderò verso la fine tutela dell'ambiente oltre a quelle cose un po' strane no del coordinamento della finanza pubblica eccetera c'è una seconda ragione è una clausola è connessa buona to fair buona per tutto eh quindi serve ottimamente ad approcci anche opposti perché nella discussione sulla legge 42 discussione tra il 2008 e il 2009 quindi buona parte dei presenti o non era nata oppure era nata da poco ma è interessante andare a vedere quelle discussioni perché i livelli essenziali delle prestazioni come limite venivano messi da chi temeva un eccesso di scivolamento diciamo sulla strada del cosiddetto federalismo fiscale e oggi peraltro viene usato l'argomento dei livelli delle prestazioni per all'opposto per tacitare quelli che si preoccupano dell'autonomia differenziata no ma guardate che ci sono i LEP no e poi c'è una terza ragione questa è più di sistema la clausola dei LEP è la più potente clausola di interesse nazionale noi abbiamo tolto l'interesse nazionale come clausola specifica ma non abbiamo tolto l'interesse nazionale semplicemente lo si ricava a partire da altre clausole quella più pregnante probabilmente è quella dei LEP si potrebbe a questo punto anche enunciare una sorta di tesi che cerco di sintetizzare che cosa è mancato sinora nel dibattito beh da qualche tempo ma anche all'inizio su insanità era così sul rapporto fra organizzazione e diritti per parecchi anni nei nostri convegni nazionali di diritto sanitario continuavo anch'io a dire certe cose non è che venissero tanto raccolte poi improvvisamente adesso lo dicono tutti quindi basta avere forse un po' di pazienza ma certamente forse quello che è mancato sinora e che potrebbe essere caro Nicola un punto di partenza della nostra riflessione di oggi è riuscire ad avere una attenzione differenziata al problema del regionalismo differenziato cioè finora abbiamo affrontato questi problemi in modo indifferenziato cioè come se appunto l'istruzione e la salute fossero la stessa cosa del governo del territorio piuttosto che dei porti piuttosto che non è così perché non cambiamo approccio sembrerebbe quasi una domanda retorica in quanto alcune delle ragioni che hanno motivato il percorso attuativo del 116 sono proprio connesse con la volontà e cercherò di spiegarmi tra poco con la volontà proprio di andare invece in quei settori dove andrebbe invece fatto un discorso differenziato allora questo evidentemente crea problemi anche quello della salute come quello dell'istruzione forse per certi versi di più è un esempio illuminante perché qui abbiamo un servizio sanitario nazionale si può anche chiamare nazional regionale ma non cambia perché è un servizio sanitario nazionale come complesso dei servizi sanitari regionali e di quegli altri enti e istituti che concorrono alla tutela della salute questa è la definizione dell'articolo 1 del decreto legislativo 502 successive modificazioni ed è la definizione che delinea il nostro sistema in sanità abbiamo dato rilievo alle ragioni che motivano un esercizio unitario di alcune funzioni 118 nuovo testo qui si è accompagnato ma già nel testo originario della costituzione l'individuazione di quello regionale come il livello idoneo a programmare organizzare quello che una volta era l'assistenza sanitaria ospedaliera è diventata la tutela della salute ma era già diventata la tutela della salute nella legislazione ordinaria nella giurisprudenza nella vita concreta della sanità in altre parole la regionalizzazione richiamo queste cose che sono un po' scontate ma sono scontate per gli addetti ai lavori molto meno nel dibattito pubblico la regionalizzazione in sanità non nasce nel 2001 e ho notato che molto opportunamente anche gli economisti più attenti ne sono consapevoli dall'introduzione di Floriana ma non avevo dubbi risale alle scelte del costituente è stata prima confermata con la legge 833 e poi rafforzata nei primi anni 90 è completata nel 99 e in qualche modo validata dalla riforma costituzionale del 2001 con rispetto a questo modello di servizio sanitario nazionale che cosa chiedono che cosa hanno chiesto alcune regioni poi abbiamo visto che tra il 19 e il 20 come dire le richieste erano diventate quasi quasi totalitarie beh l'organizzazione si dice fermi restando i livelli essenziali e qui noi diciamo che in sanità i LEP si chiamano LEA anche il comitato cassese dopo aver discusso forse anche un po' ziosamente su questa cosa e poi ha detto no noi non possiamo fare altro che dire che quelli sono poi qualcuno li voleva ridurre ma vabbè insomma nei gruppi di lavoro e nelle commissioni c'è sempre per fortuna chi vuol strappare e chi mette un po' di ragionevolezza la questione è un pochino più complessa non è semplicemente che quelli che sono i LEP del 117,2 lettera M come Milano in sanità si chiamano LEA no è che i LEP sono nati dai LEA i livelli anzitutto 833 i livelli uniformi 502 i livelli essenziali 229 del 99 cioè questa terminologia nasce in sanità allora il modello sembrerebbe quello di generalizzare i livelli essenziali in altri settori e poi in parallelo di differenziare consegnandoli alle scelte di questo o di quella regione la declaratoria dei LEA è una declaratoria pesante siamo stati siamo l'unico paese al mondo che sia riuscito a fare una cosa di questo genere prima di arrivare qui scherzando con i colleghi dicevo che l'idea che dentro il comitato cassese qualcuno aveva avanzato di rimettere un po' a posto questi LEA un po' così abborracciati scritti da persone che magari conoscevano di più la sanità che il diritto quanti mesi abbiamo in due mesi due o tre mesi li mettiamo a posto ecco tenete conto che per arrivare la declaratoria dei LEA ci sono voluti vent'anni perché quella del 2001 non era la declaratoria dei LEA era i macro livelli e l'elenco di ciò che stava fuori poi ci ha provato il ministro Turco nel 2008 ma la ragioneria generale dello Stato aveva un problema di bollinatura di un numero ci ha provato un ministro che porta il mio nome nel 2012 ma sempre la ragioneria generale dello Stato aveva un problema di bollinatura su un certo numero e poi quando finalmente si è risolto questo problema qualche anno dopo nel 2017 i LEA del 2012 il testo è uguale sono diventati i nuovi LEA del 2017 e d'altra parte quelli del 2012 riprendevano l'essenziale con un po' di cambiamenti ma l'essenziale dei LEA turco del 2008 sono oltre 6.000 tipologie di prestazione per forza di cose la sanità è già differenziata del nostro paese perché sono affidati alle regioni appunto la garanzia e la tutela di 6.000 tipologie di prestazioni quindi sotto questo profilo noi abbiamo già un livello molto forte di differenziazione quali sono le due questioni di fondo che sono certamente sottese al nostro al tema al nostro tema odierno e che probabilmente ci faranno discutere ancora per tanto tempo una questione che forse il comitato dei CLEP ha un po' trascurato è che in sanità ma forse vale anche fuori dalla sanità per buona parte delle cosiddette materie trasferibili il rapporto tra organizzazione cioè tra diritto e organizzazione è un rapporto molto stretto molto molto intrecciato assistenza sanitaria e organizzazione sanitaria non sono due mondi separati cioè non è possibile dire fermi restando i livelli essenziali differenziamo l'organizzazione volete la prova noi abbiamo nel nostro ordinamento due DM il DM 70 del 2015 e il DM 77 del 2022 che sono caratterizzati caratterizzati da che sono caratterizzati dalla circostanza di contenere degli standard organizzativi strutturali tecnologici il primo sull'assistenza ospedaliera il secondo sull'assistenza territoriale per la corte costituzionale ma non poteva non essere così questi sono specificazioni dei LEA ne condividono la stessa natura giuridica eccetera che vuol dire che il raccordo tra il momento della garanzia del diritto e della sua esigibilità e il momento organizzativo è strettamente strutturato non è pensabile di dire una volta che abbiamo dichiarato di dire possiamo differenziare il servizio sanitario nazionale e quello rimane uguale non è così se io come hanno fatto le regioni le tre regioni del del 2018 una di esse per la verità poi sulla sanità è tornata indietro cioè l'Emilia-Romagna chiedo l'autonomia cioè la libertà non più dentro i principi fondamentali delle leggi dello Stato per i ticket l'autonomia sui fondi sanitari cosiddetti integrativi l'autonomia sull'organizzazione l'autonomia sul reclutamento sulla retribuzione sulla normazione dei professionisti sanitari oltre che cose più puntuali io non chiedo semplicemente di poter fare la mia strada per migliorare il servizio per dare prova di maggiore efficienza no io sto destrutturando il servizio sanitario nazionale cioè sto arrivando ad un obiettivo che perché il servizio sanitario nazionale è una scelta politica fatta nel tempo astrattamente l'attuazione dell'articolo 32 dell'articolo 117 della Costituzione in materia di tutelare la salute si può fare in tanti altri modi che non con un servizio sanitario nazionale purché siano tutelati i diritti eccetera ma nel momento in cui ho un servizio sanitario nazionale e decido che alle regioni che lo chiedono quindi potenzialmente a tutti affido quello che vi ho detto e io permetto che il servizio sanitario nazionale sia trasformato dal suo interno cioè è su quella la contesa e quando si diceva alla fine dell'intervento di Floriana il rapporto pubblico privato è quella la contesa è quella è certamente quella che ha mosso tutto quanto perché il Veneto si è mosso perché c'è la questione del Trentino va bene ma la Lombardia si è mossa d'altra parte vi ricordate la devolution la devolution istruzione e salute li devolveva alla la riforma costituzionale del 2006 poi non confermata nel referendum un costituzionale dello stesso anno e li devolveva alle regioni no ma perché proprio quello era il modo per trasformare il servizio sanitario nazionale non è difficile e però allora allora e vado verso la conclusione non è difficile capirlo ma ma forse se vogliamo cambiare sanità se vogliamo bilanciare diversamente il pubblico e il privato forse non dobbiamo usare il detour dell'autonomia dobbiamo aprire un dibattito nazionale su queste cose sulla sanità sull'istruzione dibattito in cui ciascuno porta le proprie le proprie argomentazioni in questo modo mi sembra che non sia molto corretto ed è per questo che ci vuole una considerazione differenziata dell'autonomia differenziata il discorso si complica ancora di più come accennavo prima se pensiamo che tra le materie cosiddette materie trasferibili c'è anche la lettera S del secondo comma cioè la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema adesso bisognerebbe dire degli ecosistemi perché la riforma costituzionale dell'articolo 9 ha messo ecosistema al plurale mentre nel 2001 c'era era stato messo ma era stato messo al singolare e se se l'ambiente con la tutela con la salute animale la salute ambientale e quella umana si integrano in quella nozione che ha una pregnanza giuridica anche se è ancora un po' da costruire di One Health una sola salute beh come faccio a pensare che si possa dare alla regione X che lo chiede la tutela dell'ambiente senza limiti in una materia in un campo nel quale le regole sono per forza di cose fissate dal livello sovranazionale o internazionale allora noi saremo l'unico paese al mondo dove sull'ambiente può parlare la convenzione internazionale i trattati eurounitari le singole regioni e non può dire nulla perché questa sarebbe la conseguenza competenza attuale esclusiva dello Stato tutela dell'ambiente variamente interpretata dalla Corte differenziazione cioè la regione chiede quella competenza lì diventa competente in via esclusiva sull'ambiente esclude la competenza dello Stato che non potrà più dire nulla oppure su alcune regioni potrà dire questo è qualche cosa che dire questo è semplicemente fare il proprio mestiere di costituzionalista non è prendere posizione a favore di questo o di quella linea politica però di questo bisognerebbe parlare una battuta finale credo davvero che il il regionalismo italiano abbia necessità di essere rinnovato e ripensato non sono per nulla convinto che la strada per farlo sia l'attuazione questa attuazione tantomeno un'attuazione indifferenziata del 116 ma credo davvero che in tutte le questioni nodali del regionalismo si debba fare uno sforzo perché questo riprenda senso in questi giorni il nostro professor Turati dico nostro per noi della cattolica ha scritto una cosa abbastanza interessante sulla proprio sulla sanità sulla circostanza che i livelli essenziali in sanità sono monitorati sul modo con cui e sulla qualità del monitoraggio c'è una grande discussione ma certamente sono monitorati ma su di essi non c'è sufficiente attenzione verso una convergenza nel vediamo se trovo la citazione di Turati nell'accordarci sulle convergenze verso un benchmark monitoriamo le diseguaglianze le diversità perché non possono non essere diversità ma il senso del sistema è quello di andare a ridurre le diseguaglianze ecco bene a me pare questo il nodo di fondo più importante ed è proprio su questo che volevo concludere vi chiedo scusa per la lunghezza dell'intervento ma questa è una materia che mi appassiona troppo e cioè la qualità di un sistema nazionale di tutela in materia sanitaria ma probabilmente anche in altre materie discende certamente dal suo disegno ma anche dalla capacità che ha di avvicinare i territori di ridurre le diseguaglianze se non riesce a fare questo c'è un problema e su questo problema bisogna intervenire come si possano ridurre le diseguaglianze aumentando la differenziazione tra regione resta per me una domanda irrisolta vi ringrazio grazie grazie professor balduzzi adesso vedo il professor pisauro tanto buonasera grazie professore di essere arrivato ecco prego grazie buonasera innanzitutto ringrazio per l'invito mi dispiace molto di non poter essere lì in presenza dunque io mi parlerò del finanziamento della sanità soprattutto partendo dal modello attuale che secondo me è ricco di insegnamenti su quello che possiamo aspettarci anche da questa vicenda dell'autonomia differenziata e quindi leggere poi il modello attuale alla luce di quello che potremmo trovarci davanti nei prossimi mesi anni se questo progetto arriva a conclusione il modello di finanziamento della sanità dal mio punto di vista è molto interessante perché mette in evidenza una contraddizione direi plastica della riforma del titolo quinto ed è la contraddizione tra da un lato l'articolo 117 che enfatizza l'uniformità delle prestazioni appunto i LEP e dall'altro il 119 in cui come principale fonte di finanziamento degli enti territoriali vengono individuate con partecipazione al gettito di tributi territoriali riferibili al loro territorio e in questo c'è molto diciamo in nuce della vicenda che stiamo vivendo in questi mesi in questi anni compartecipazioni che sostituiscono semplici trasferimenti dal bilancio dello Stato e in questo diciamo tendono ad assimilare il modello di finanziamento delle regioni statuto ordinario a quello delle regioni statuto speciale che sono finanziate con compartecipazioni con alicota fissa che arrivano anche al 100% come sappiamo l'aspetto interessante è che finora nel caso della sanità la contraddizione è stata risolta in modo ingegnoso ma netto nella a favore dell'uniformità delle prestazioni almeno dell'uniformità del finanziamento in che modo? Disegnando modelli di finanziamento che nella sostanza configurano un sistema di trasferimenti dallo Stato passo rapidamente in rassegna come funziona il sistema attuale ed è diciamo il sistema disegnato dal vecchio Calderoli la legge 42 del 2009 perché qui c'è un'altra costante diciamo sono i disegni di legge in quel caso approvati Calderoli lì cosa dice a proposito del finanziamento delle regioni distingue innanzitutto tra diciamo attività materie che sono riconducibili ai LEP lì in modo molto molto ristretto ricordo che che lì si indicano l'assistenza la sanità una parte del trasporto pubblico locale non c'è un elenco così così diciamo ampio come quello che troviamo nel nuovo disegno di legge Calderoli quindi una cosa molto circoscritta ed è stata applicata soltanto nel caso della sanità la prima parte quella del finanziamento di materie riconducibili ai LEP e poi ci sono le altre materie non riconducibili ai LEP ma concentriamoci sulla sanità come funziona il meccanismo sapete che innanzitutto c'è una scelta che quando nella Costituzione si parla di vediamo se ritrovo i territori con minore capacità fiscale per abitante destinatari del fondo per equativo la scelta del finanziamento della sanità è stata quella di dire che quella dizione territori con minore capacità fiscale per abitante significa valletta come tutti tranne quello con la massima capacità fiscale per abitanti quindi la regione più ricca anche questo non è scontato è un'interpretazione possibile però potrebbe anche essere superata e questo pone un punto di domanda su quale sarà l'assetto del sistema in particolare del caso della sanità quando saranno state trasferite ulteriori eccetera eccetera a forma di autonomia anche in materia sanitaria non è detto che rimanga questo individuata la regione più ricca si fissa come sapete un'alliquota di compartecipazione all'IVA che serve a finanziare completamente il fabbisogno poi vedremo fabbisogno fabbisogno è un'altra parola importante che compare nel Cardelorio ovviamente finanziare completamente il fabbisogno di quella regione le altre regioni per definizione essendo meno ricche in termini di gettiri fiscali dei tributi erariali avranno bisogno di ulteriori risorse e queste le copriamo con un ulteriore un ulteriore compartecipazione differenziata questa volta tra tutte le regioni quindi alla fine abbiamo tutta questa serie di compartecipazioni che che finanziano il fabbisogno il fabbisogno poi vedremo come viene come viene diciamo calcolato ma la cosa importante è che queste compartecipazioni sono non sono ad aliquota fissa ogni anno si modificano le aliquote di compartecipazione quindi in realtà quello che guida è il famoso è il fabbisogno quindi questo sistema si poteva benissimo costruire con una serie di trasferimenti dal bilancio dello Stato non c'è nessuna differenza tra trasferimenti dal bilancio dello Stato è invece questo sistema di compartecipazioni è un travestimento che però garantisce l'uniformità del finanziamento tra le regioni altrimenti cosa c'era un'alternativa quell'interpretazione a monte che dicevo prima quella di dire solo la regione più ricca è quella che non riceve fondi non riceve un finanziamento perequativo il vostro collega è anche mio per certi versi maestro abbiamo passato tanti anni insieme alla commissione tecnica per la spesa pubblica Piero Giarda sosteneva un'altra tesi quella di dire non ricevono fondo non ricevono finanziamenti dal fondo perequativo le regioni più ricche no? che voleva dire poi di fatto che alcune di quelle di quelle regioni la più ricca o le più ricche tra quelle così individuate avrebbero avuto qualche margine di finanziamento ulteriore no? il finanziamento sarebbe stato superiore a coprire il fabbisogno e questo è il primo però non c'è dubbio che tutta quella costruzione la contraddizione a cui facevo riferimento all'inizio finanziamento con compartecipazioni riferite al gettito raccolto del territorio è tendenziale uniformità delle prestazioni qui è risolta è stata risolta nel senso che vince la tendenziale uniformità delle prestazioni finora la questione di ILEA la questione di ILEA che che relazione c'è tra ILEA oggi e il finanziamento del sistema ILEA servono in qualche modo in un modo un po' ellittico a definire il fabbisogno come è definito il fabbisogno qui c'è un'altra diciamo così un'altra soluzione ingegnosa che apparentemente definisce il fabbisogno sulla base di criteri collegabili a ILEA di fatto però ottiene un risultato diverso passiamo anche questo rapidamente in rassegna come avviene allora la la delega la legge del 2009 diceva che il fabbisogno deve essere determinato nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni da erogare in condizioni di efficienza e appropriatezza su tutto il territorio nazionale questo diceva la delega e come si fa? si è detto prendiamo del decreto legislativo che poi è seguito la legge delega del 2009 individuiamo delle regioni di riferimento tre regioni queste devono essere in equilibrio economico e devono garantire l'erogazione dei lea in condizioni di appropriatezza ed efficienza quindi sono quelle che funzionano bene da questo punto di vista come come vado a verificare che garantiscono i lea in condizioni di appropriatezza ed efficienza sulla base del sistema di monitoraggio di cui forse avete parlato anche prima sentivo il professor Balduzzi accennare al sistema di monitoraggio allora il sistema di monitoraggio insomma è criticabile sotto vari aspetti diciamo senza dilungarsi troppo però l'aspetto cruciale è che è un sistema che si basa sulla autocertificazione ed è giudicato da ed è diciamo giudicato da una commissione paritetica regioni ministero della sanità e così via che questo sistema non è chiaro che funzioni benissimo perché oggi esperienza concreta io temo che regioni che che forniscano i che erano in lea in condizioni di appropriatezza ed efficienza a giudicare dai racconti che si sentono su liste d'attese e così via in tutte le regioni italiane forse non ce ne sono diciamo che il sistema ha dei limiti sicuramente comunque le individuano d'accordo individuano queste tre regioni poi che fanno prendono la spesa di quelle tre regioni per farla breve prendono la spesa di quelle tre regioni e rapportandolo alla popolazione pensata per l'età definiscono un costo standard quindi il costo standard non è costruito guardando ai costi dei singoli lea cosa che onestamente come diceva prima il professor Barduzzi sono 6.000 prestazioni sarebbe impossibile ma dicendo io prendo quelle che ho visto che riescono a derogarli e questo è la loro spesa è il costo standard questo in ultima analisi a quel punto io avendoci il costo standard delle tre regioni brave posso determinare la spesa standard nazionale e qui c'è l'altro salto per tenere insieme il sistema quella spesa nazionale si può calcolare ma non ha nessuna influenza sul risultato perché il risultato che conta è la programmazione del finanziamento triennale del finanziamento del sistema sanitario e quella diciamo quello viene fatto fuori all'interno della programmazione di bilancio e poi quel fondo là viene ripartito sulla base essenzialmente adesso semplifico semplifico in parte sulla base della popolazione pensata per l'età morale della favola io potrei scegliere una triade qualsiasi di regioni il risultato non cambierebbe quindi le tre regioni di riferimento rappresentano puramente un artificio retorico non hanno nessuna diciamo nessuna rilevanza e che cosa anche qui diciamo quindi quello che uno potrebbe immaginare leggendo le norme poi trova un'applicazione che tiene conto di abbiamo visto sul finanziamento totale tiene conto della necessità di garantire uniformità di finanziamento quindi il legame col gettito riferito al territorio viene si perde completamente riguardo al fabbisogno si costruisce una narrazione che fa diciamo prendere regioni benchmark tutte queste cose qua ma questa narrazione non ha poi un rilievo un rilievo un rilievo pratico e questo lì la spiegazione è tenere insieme le esigenze diciamo di di finanziamento delle prestazioni e però le esigenze altrettanto importanti di di tenuta dei conti pubblici cioè immaginare che noi avrei potremmo mai avere un sistema che fa un elenco di prestazioni così ampio e che questo 6.000 li sentivo prima e che il finanziamento il finanziamento venga fatto sommando il costo di ciascuno di questi secondo me è un mondo che non vedremo mai non potremo vedere mai quindi quindi lasciamo da parte questa cosa qua cioè ragioniamo su quello che è effettivamente sul mondo possibile questa storia della sanità che insegnamenti ci ci fornisce rispetto su questa questione dell'autonomia differenziata innanzitutto che alcuni riferimenti che sembrano che sono messi lì per tranquillizzare no non preoccupatevi perché tanto sono garantiti i LEP tranquillizzano fino a un certo punto perché abbiamo un'applicazione dei LEP questa che abbiamo appena raccontato e questa applicazione non è detto che regga una volta che ci sono tre regioni per cominciare o due se l'Emilia si dirà fuori che hanno ulteriori forme di autonomia in materia sanitaria o in qualsiasi altra materia quel sistema lì che abbiamo appena raccontato regge la parte del finanziamento destinata che serve per le ulteriori funzioni seguirà quel modello? Ecco qui qualche indicazione dal Calderoli ce l'abbiamo abbiamo detto prima le aliquote è una cosa tecnica forse da economista pubblico ma è il punto cruciale le aliquote di compartecipazione oggi non sono fisse e vengono rideterminate anno per anno automaticamente non c'è la commissione paritetica c'è diciamo si fa il conto di il finanziamento è stato già deciso l'aliquote di compartecipazione deve essere tale da garantire quel finanziamento quindi è un'operazione puramente algebrica non serve una commissione per fare questa cosa qua il ministero dell'economia qui invece qual è il racconto il racconto ha due stadi primo stadio le preintese le preintese dicevano le aliquote di compartecipazione sono in linea di principio fisse se c'è un residuo superiore al al fabbisogno quel residuo rimane in testa alla regione e quindi questo era diciamo il modo per garantire più risorse alle regioni che chiedevano l'autonomia differenziata l'ultima versione del disegno di legge corregge questo aspetto ed è importante che lo faccia che dice no attenzione non non rimane un surplus alla regione perché ogni ogni anno c'è un monitoraggio del fabbisogno un monitoraggio della del gettito della della compartecipazione per quella regione e poi se c'è se c'è diciamo un residuo questo viene cancellato quindi la ligo di compartecipazione viene rivista ma questo viene fatto non nello stesso modo in cui avviene oggi il fabbisogno è fissato a monte il finanziamento totale è fissato a monte ma viene fatto in ordine sparso da ciascuna commissione paritetica stato regione stato regione non stato regioni quindi cosa potrà il ministero dell'economia con un suo provvedimento può cambiare la legge di compartecipazione su proposta della commissione paritetica questo è il punto per non parlare poi di come viene diciamo definito il fabbisogno io leggendo sarà un mio limite ma leggendo il disegno di legge non riesco a capire come viene definito il fabbisogno da che poi deve essere finanziato con la compartecipazione insomma è un bel pasticcio con pericoli non banali diciamo ricordiamo che la vicenda nasce dalle preintese i referendum le preintese e così via lì l'obiettivo era esplicito come diceva prima il professor Balduzzi era in qualche modo ridurre il cosiddetto residuo fiscale qui qualcosa del genere è ancora possibile e l'esperienza della sanità fino adesso come vengono monitorati i livelli eccetera eccetera non lascia tranquilli o poi c'è l'altra novità la l'ampiezza dell'elenco dei LEP che da quello che capisco è una sostanziale trascrizione delle conclusioni del comitato CLEP che lì dentro ci sono delle cose che sono anche di tipo regolatorio standard di servizio ma anche cose diciamo sul ad esempio sull'ambiente ci sono delle cose speriamo se ve l'ero segnata di soglie massime di impermeabilizzazione artificiale del suolo limiti agli interventi di trasformazione dei boschi e dei relativi terreni tutte cose di questo tipo domanda da non giurista che vale per le materie LEP così ampie in questa versione così ampia ma vale anche per quelle non LEP che poi non dobbiamo dimenticare perché il rischio di frammentazione delle politiche pubbliche è presente pure per quegli ambiti lì che comunque non sono banali tipo l'ordinamento delle professioni ogni regione si fa il suo albo cose di questo tipo quando mi trasferisco da una regione all'altra devo uscire da un albo e entrare in un altro che magari ha criteri di ammissione diversi come funziona il mondo in questo quadro non lo so qui esempi se ne potrebbero fare se ne potrebbero fare a decine no dicevo da non giurista ma che fine hanno fatto i principi fondamentali che non sono stati che il 117 prevede per le materie diciamo a competenza legislativa concorrente questo elenco di LEP così ampio è un modo per mantenere una qualche forma di una domanda che vi faccio una qualche forma di principi fondamentali in materie che non sarebbero più a competenza legislativa concorrente ma invece diventerebbero di competenza esclusiva delle regioni ad autonomia differenziata può darsi però non mi sembra la strada migliore la strada migliore sarebbe dal mio punto di vista circoscrivere che insomma quello che diceva prima è importante cioè va interpretata questo benedetto 116 circoscrivere l'ambito all'interno di quelle materie di quello che è diciamo così devolvibile e fissare una volta infine finalmente i principi fondamentali che rappresentano in qualche modo una cornice materia per materia degli elementi che comunque non sono differenziabili perché alla fine i leppi sono questi questi leppi così lunghi e così anche diciamo ampi come numerosità significano questo sono le cose che non si possono differenziare e allora prendiamo il problema da diciamo a monte prima sentivo accennare a pubblico privato della sanità scriviamo principi fondamentali questo è quello che manca come come quello che manca è che ancora non si vede ed è il limite più grande di tutta questa vicenda manca completamente i criteri che spieghino perché mai è più efficiente più efficace in termini di servizi trasferire quella particolare funzione dallo stato attuale trasferirla conforme ulteriore alle regioni c'è una qualche giustificazione che vada oltre quella che si legge oggi nelle preintese che come sapete è una formula generica scritta esattamente negli stessi termini in tutte e tre le preintese che dice queste forme ulteriori di autonomia vanno a favore del benessere dei cittadini della regione che lo chiede all'incirca questo è un po' il quadro per concludere la cosa diciamo che personalmente trovo più preoccupante è la riproposizione del processo che si svolge in ordine sparso in cui ogni regione ha la sua commissione paritetica le regioni arrivano a chiedere diciamo queste forme di autonomia in una alla volta come sappiamo ce ne sono praticamente tutte tranne uno due avevano già in qualche modo innescato il processo è chiaro che se questa cosa va in importo quelle che l'avevano già innescato andranno avanti fare questa cosa senza avere diciamo una qualche cornice generale prima di cominciare è davvero difficile da capire come questo non possa tradursi in una frammentazione deleteria delle politiche pubbliche in Italia su questo bisognerebbe un po' ragionare certo contemporaneamente bisognerebbe ragionare anche sul federalismo diciamo così normale io lì credo che una riflessione che non è stata mai fatta su due questioni che riguardano il finanziamento una è diciamo l'esclusione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato come forma normale di finanziamento non c'è nessun paese federale che non ha i trasferimenti come forma normale di finanziamento ma più importante ancora di questo è un passo sempre del 119 il primo comma del 119 in cui si sostituisce alla dizione precedente che era cito a memoria gli enti territoriali hanno autonomia di entrate di spesa nei limiti di legge dello Stato hanno autonomia di entrate di spesa questo esclude finanziamenti vincolati adesso diciamo anche questo non ha uguali nessun posto al mondo gli Stati Uniti il governo federale degli Stati Uniti finanzia medicaid i trasferimenti a favore dei poveri food stamp quelle robe lì con trasferimenti vincolati ai quali i singoli stati partecipano mettendoci un loro finanziamento aggiuntivo il fatto che noi dobbiamo escludere questa possibilità dal quadro delle forme di finanziamento che quindi impedisce cosa? impedisce politiche nazionali questo è il punto e infatti giustamente la Corte Costituzionale su questo è intervenuta già fin dall'inizio con i primi anni con gli asili nido sulla questione finanziamento degli asili nido fondo vincolato e già ultimamente sempre riguardo alla finanza degli enti locali dicendo che questo non si può fare perché quelli hanno autonomia di spesa quindi abbiamo un mondo in cui in sintesi gli enti territoriali non hanno autonomia di entrata perché le compartecipazioni non sono una forma di autonomia di entrata e noi nei prossimi mesi da qui al 2026 siamo impegnati in questo futile esercizio di sostituire quello che rimane di trasferimenti con nuove compartecipazioni poi nel caso dei comuni si arriva all'apice di questa vicenda sempre sulla base del vecchio Calderoni i comuni si finanziano anche con compartecipazioni alle compartecipazioni delle regioni e nella 49 penso che se non ragioniamo sul 119 e sul modo di finanziare le autonomie locali da questa vicenda usciamo malissimo grazie 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 anche con lui tantissime questioni sulle quali bisognerebbe fare un dibattito scientifico politico eccetera adesso sì allora diciamo 5 minuti max per qualche domanda dibattito anche professor Balduzzi vuole aggiungere qualcosa e poi passerei la parola al presidente dell'istituto Sturzo per chiudere proprio solo 30 secondi due cose che ha detto il professor Pisaro mi sembrano molto importanti tutte molto importanti ma due in particolare sulla questione che poneva la domanda dei Lea in alcune materie dove evidentemente non si riesce a capire come possa rimanere una una sorta di unità nazionale è proprio questo il punto cioè i livelli essenziali come clausola bon to fair vengono estesi quindi applicati anche fuori da una logica di prestazioni oppure facendo diventare prestazioni cose che di per sé non lo sono i requisiti per l'iscrizione a un ordine professionale per esempio la seconda cosa è quando faceva riferimento proprio agli Stati Uniti cioè c'è una decisione della Corte Suprema del 2012 che permette agli Stati membri di estendere al proprio territorio o meno cioè di decidere se si estende o meno al proprio territorio quella parte della riforma Obama dell'ACA dell'Affordable Car Act che riguarda il programma MediCide che è un programma per i diciamo i meno i meno ricchi dieci Stati non l'hanno fatto in quei dieci Stati non c'è copertura di MediCide alle persone che ne hanno bisogno in qualche modo il meccanismo prefigurato dal 615 rischia di avvicinarci pericolosamente a quella situazione che in partenza è diametralmente opposta da noi noi abbiamo servizio sanitario nazionale universale bla 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 però attraverso una differenziazione non meditata si rischia di arrivare a quella soluzione se non ci sono domande qualcuno vuole aggiungere qualcosa passerei la parola al presidente Sturzo al presidente dell'istituto Sturzo buonasera a tutti io inizio queste mie brevi conclusioni ringraziando come doveroso il rettore professor Franco Aneui per averci ospitati in questa bella sede dell'università cattolica voglio ricordare anche se si è accennato ovviamente nel corso dei lavori che l'incontro di oggi è stato ispirato e anche organizzata da Lorena Cernilla da Renato Barduzzi da Simone Paino che insieme ai relatori di oggi cioè i colleghi Anna Maria Poggi Giuseppe Pisauro Patrizia Lataruo hanno affrontato sono messi di fronte a una questione rilevantissima e assai delicata cioè oggi si è ragionato a partire dall'avanzamento dei lavori della riforma sull'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario oggi oltre alle coordinate generali della riforma che secondo me restano importanti che lo Sturzo si impegnerà a discutere oggi si è ragionato principalmente delle materie dell'istruzione e della salute cioè delle materie in cui massimamente si giocano i bisogni di protezione delle persone quelle materie che Anna Maria Poggi ha definito credo confermate poi da tutti gli interventi che possono essere chiamate infrastrutture nazionali le materie dell'istruzione e della e della salute perché l'istruzione e della salute sono materie preposte alla parificazione dei servizi formativi e dei servizi sanitari parificazione a prescindere dall'estensione territoriale di una regione di una provincia eccetera ora in questa direzione possiamo dire che tutti i relatori hanno messo a fuoco i diversi aspetti nonostante le tecnicalità della materia che sono emerse via via e in modo decisamente utile ad arricchire il dibattito pubblico sul tema ora io mi permetterò aggiungerò solamente qualche riflessione più di tipo diciamo politologico che giuridico ed economista ed economico perché non sono né un giurista né un economista di professione nel dibattito è stata confermata quello che sapevamo l'accelerazione impressa dall'attuale maggioranza di governo per la prefazione di due riforme istituzionali del grande rilievo per il futuro del nostro paese quella del premierato con rilevanti incidenze sul sistema parlamentare fissata dalla nostra Costituzione è quella appunto del regionalismo differenziato intestata dal ministro Calderoghi come si è ripetuto continuamente fino all'ultimo importante intervento del professor Pisaura parte dalle ambiguità interpretative dell'articolo 16 e investe 117 118 così a catena investe investe questi team qua riforma che come si è detto è indirizzata sarebbe indirizzata all'assicurare una più ampia autonomia legislativa e amministrativa alle regioni che la richiedono connessa con una dotazione finanziaria su ben 23 materie o 24 tra cui alcune molte elevanti per le tante implicazioni che hanno come quella dell'istruzione e della salute non è stata e non doveva essere questa la sede per riconoscere se i due progetti che ho citato della nuova maggioranza siano il frutto come molti credono di un baratto politico interno alle forze di maggioranza quel che ci è interessato oggi di cui abbiamo discusso è che il dibattito di natura giuridica ed economica sul regionismo differenziato non ha avuto nel suo insieme il rilevante sviluppo eccetto che in poche sedi come quella di oggi che molti di noi attendavamo cioè non molto intorno a noi è cresciuto sul piano teorico rispetto ai risultati che in alcune sedi tra questo l'istituto storso ha reso pubblico il nostro istituto poco meno di due anni fa in un convegno del marzo del 22 che si svolse solo 5 mesi prima dell'insediamento del governo Meloni il 22 ottobre certo in quel marzo la situazione ambientale era totalmente diversa da quella odierna stavano per fortuna scemando gli effetti della pandemia da covid-19 e si aprivano interessanti anche se incerte prospettive in vista dell'attuazione del PNRR con le sue missioni con le sue risorse in parte in via diretta o indiretta destinate alle autonomie locali già allora in quel convegno se ricordo bene si reagì o meglio si cercò di cogliere l'eventuale coerenza tra i principi di cooperazione e di solidarietà fissati in Costituzione e la ipotizzata efficace solo ipotizzata degli accordi preliminari stipulati nel febbraio del 18 dalle prime regioni del nord in lombardia veneto e 2000 in vista dell'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di forme e condizioni particolari di autonomia differenziale a fronte dei confusi rischi politici e costituzionali presenti in quegli accordi preliminari la comunità di studiosi coinvolti per l'occasione era presente che la riforma del 2001 del titolo quinto non aveva frenato o impedito la difformità di indirizzi che si era sviluppata negli ultimi anni tra Stato e Regione in altre parole si era del tutto consapevole dell'inaspiramento dei conflitti di competenza tra le amministrazioni cioè tra quella centrale e quelle periferiche con il contestuale l'evitare di inefficienze di costi specie in quelli che nella dolorosa stagione pandemica erano divenuti proprio i nevralgici settori della salute e dell'istruzione peraltro non sfuggiva neanche che tra le cause maggiori degli squibri a parte il ruolo marginale o inesistente di centri politici autorevoli a iniziare dal Parlamento rimaneva il perdurante e non casuale accantonamento del federismo fiscale di cui si è tornato a parlare anche stasera accantonamento che l'ha già prodotto a crescersi di diseguannanze tra i territori e annullato pressoché totalmente il modello di una finanza pubblica fondata su meccanismi di perequazione accantonamento per cui finivano per divenire evidenti le prestazioni a poco dispare rese nell'ultimo biennio dalle singole regioni specie tra quelle d'Arnold e quelle del sud in base a questi rilevi nel corso di quel convegno capitò a qualcuno compreso sottoscritto di esprimere addirittura il dubbio che seguendo un paradigma di Max Weber le istituzioni perdono la loro legittimazione se non riescono a frenare la loro degenerazione interna e a determinare accettabili livelli di autonoma funzionalità questo Max Weber proprio questo appariva ad alcuni nel marzo del 22 questo pareva un sensibile rischio che si stava correndo e soprattutto appariva chiaro che si stava andando verso una contrapposizione tra le individualità regionali e le identità nazionali che si era avviato un processo di disgregazione di quello che molte generazioni di italiani aveva tentato di costruire bene o male almeno dal risorgimento in poi da un lato riemergeva l'idea rivelatasi poi diciamo superata della pagina bianca ricordata da Bagduzzi quella di Giannini ma si ripensava anche a quello che aveva detto Storzo c'è che nella Costituzione era stato disegnato per la regione un livello d'autonomia e un asset istituzionale fondamentalmente debole è sempre a rischio di essere manipolato io ricordo qualche lezione qui in Università Cattolica ascoltata da Feliciano Benvenuti Feliciano Benvenuti diceva fu in fondo un accordo politico e quindi c'erano tante debolezze Storzo uno dei patri del regionalismo lo capì lo colse ma poi disse tra l'idea il fatto sempre tra una prospettiva e la realizzazione c'è sempre un divario da un altro lato però sempre diciamo nell'anno in cui si è avviato questo processo si rilevava che dai processi evolutivi del nostro paese sia politici che amministrativi le regioni erano rimaste per lo più estrane o ne avevano solo subito le conseguenze questa è il cammello di questa durissima posizione in entrambi i casi nel caso che nella Costituzione non si fosse disegnato un quadro efficace delle regioni o nel fatto che c'è stata una distanziarsi dalla legislazione nazionale dalla politica nazionale alla politica regionale in entrambi i casi neanche la riforma quello che si sosteneva nel 1922 neanche la riforma del titolo quindi aveva per così dire sollevato le regioni da uno stato di minorità allora a superare almeno provvisoriamente tale perplessità diciamo Weberiani intervennero allora come è avvenuto oggi stasera intervendono colleghi importanti studiosi importanti giuristi ed economisti si annotò allora e si è annotato oggi se non sbaglio che ormai è divenuta cronaca e cronica la innevassa richiesta di controlli da parte di enti superiore il Parlamento tacce i parlamentari tacce ed è una cosa assoluta se uno ha in testo davanti all'occhio un po' di storia d'Italia in qualsiasi cambiamento e questo è un cambiamento formidabile qualcuno interviene bene in maniera orchestrale polemizzando appoggiando eccetera adesso più che nei talk show televisivi la politica i centri decisionali sono assenti si annotò allora e che si è sottolineato oggi con vari argomenti che in concreto il rapporto tra centro e periferia anche negli stadi federali l'hanno sottolineato bene l'hanno sottolineato bene prima sia Barduzzi dopo Pesauro il rapporto tra centro e periferia è sempre complesso solamente che abbiamo esempi mettiamo quello tedesco in cui l'organizzazione amministrativa legislativa e amministrativa è perfezionata per quanto possibile è comunque funzionante rispetto alle aspettative dei territori e questo porta a dire ha portato a dire credo che al fondo sia quello che è emerso dall'amica Lattarù dall'Anna Maria Poggio ovviamente dalla bella introduzione anche di Floriana porta a dire che probabilmente è una conclusione di tutto provvisoria per l'Italia è più che una riforma delle autonomie bisognerebbe tendere a una valorizzazione delle valorizzazioni degli strumenti politico-amministrativi per regolare le funzioni interne tra le regioni i rapporti no le funzioni interne alle regioni i rapporti tra le regioni e i rapporti tra le regioni e lo Stato che non è non sono capitoli da poco ma evidentemente sono capitoli che non sono stati scritti bene e tantomeno vissuti bene dalle classi dirigenti di questo paese bisogna in effetti un'altra cosa che passa rilevante è che nel 2022 nel vecchio convegno dello Storzo proprio Floriana ci stimolava a riflettere sul fatto che il governo di allora presieduto da Mario Draghi tendeva in qualche modo a rivitalizzare i contenuti della riforma del titolo quinto riorganizzando su vari livelli i raccordi amministrativi necessari per assegnare e distribuire ingenti risorse previste dalle emissioni del PNRR per distinte aree del paese oggi la situazione politica è cambiata legittimamente con il governo Meloni è evidente la pertinace volontà di approdare a definire nel suo complesso la legge sull'autonomia differenziata e quindi anche su tutte le materie è altrettanto evidente come accennato la contestuale mancata effimera evoluzione del dibattito pubblico forse il dibattito accademico ha detto qualcosa ma il dibattito pubblico è assente è assente e bisogna ovviamente chiedersi perché non è questa la sede mi pare che dalle relazioni di questo intenso pomeriggio sia emerso in modo chiaro che sia nelle tecnicalità sia soprattutto nelle prospettive della legge Calderone manchino ancora dettallati e vincolanti riferimenti ai necessari criteri di uniformità ed egualanza per regolare il rapporto tra regione e Stato è stato mancanza resa mancanza perdurante dal rinvio dalle garanzie su livello essenziale delle prestazioni di servizi questo rinviare continuamente è nel rinvio cambiare materie di intervento rinvio porta a mio modestissimo modo di vedere la questione giuridica a una questione politica cioè è il diritto che è usato è scusate manipolato in ordine degli interessi questo questo è il fatto voi dovreste dire un più forte vi aiuteremo noi nel senso che è chiaro che certamente sono ridicole anche se sono viste firmate sottoscritte da illustri giuristi sono ridicole e sono evidentemente file di manovre di interessi di quelle che poi è fatta la politica non è che stiamo facendo i moralisti solamente che bisognerebbe saperlo per esempio vanno sfumando le attese per gli auspicati fondi del PNRR destinati all'autonomia sia per la per la mancanza da presa d'atto dei loro postulati cioè di come vengono dati in base a quali missioni e in base se sono vengono dati in conto capitale o per la per l'amministrazione ordinare della sanità o dell'istruzione sia per i vari rivoli sui quali potrebbero vanno spargendo se potrebbero spargersi le varie missioni a livello molto localistico diciamo difficilmente pare che i fondi del PNRR potranno andare a coprire le notevole esigenze correnti nelle aree della salute e dell'istruzione pare quasi molto triste dirlo pare quasi dover prevedere un addio ai capitoli essenziali del nostro welfare così noi perché il ministro Calderoi ha deciso noi gettiamo via non non cambiamo come andrebbero cambiate il soltanto ma il male buttiamo via acqua sporca e bambino come si dice e quindi il welfare quello che era il sogno quello sul quale direi qualsiasi partito politico a cui difesa qualsiasi forza politica di destra di sinistra dovrebbe presidiare insomma è quello che c'è di meglio se inoltre ho discusso qui della portata e delle conseguenze sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo finanziario di eventuali competenze esclusive delle regioni sulle materie di cui abbiamo discusso sulla questione mi pare di aver sottolineare che sempre cioè in ogni situazione i pubblici poteri devono assicurare protezione alle persone attraverso prestazioni uguali e che materie come l'istruzione e la sanità non possono essere oggetto di sperimentalismi azzardati è troppo delicata la materie è troppo delicata quindi occorrerà aver chiaro cosa si prevede per il futuro dal punto di vista legislativo prima di agire ci occorre comprendere bene cosa il nuovo assetto andrà a produrre nella realtà prima di accettarlo vediamo le conseguenze e ciò non appare ancora chiaro in un contesto in cui le effettività dell'istruzione della sanità pubblica sono già segnate da numerose criticità ebbene proprio per questo c'è da te racconto come ha sostenuto un amministrativista che i sistemi democratici possono si togherare un certo grado di ineffettività amministrativa ma questa è sostenibile fino a un punto di rottura quello scusate quello in cui si tocca tra i consociati la credibilità del sistema democratico nella sua capacità di rispondere a bisogni fondamentali prima fra tutti dice in tempi non sospetti un decennio fa prima fra tutti la salute e l'istruzione un decennio fa prima ora non vorrei questa è una mia riflessione del tutto personale che come sostennano regionalisti del secolo scorso ma non sto dicendo del millennio scorso del secolo scorso io penso a Storsa ma anche a Gaetano Salveni come sostennano non vorrei che loro temevano che si creassero condizioni di insoddisfazione diffusa nei riguardi delle istituzioni centrali cioè che il paese fosse indotto ad avere una insoddisfazione anche se non fissata su alcuni capitoli finendo per produrre l'effetto che alcuni enti territoriali e quali ovviamente primariamente le regioni esprimano richieste singole e frammentate che esulino dai citati criteri democratici di ugualanza e uniformità stimolando i poteri centrali a intervenire cedendo anche dalle loro competenze per dare soddisfazione a singole richieste questa è una cosa che chi studia un po' di storia istituzionale lo sa è una delle precondizioni in cui nascono i regimi autoritari il frammentare la domanda e rispondere alla frammentazione con interventi frammentati significa dare più potere a quello centrale e finisce per dare l'impressione che si possa autoritariamente distinguere tra richieste e richieste questa è la grandezza del principio di uniformità e questa è l'idea grande per cui non puoi frammentare andare dietro agli amici del partito eccetera eccetera concludo a tentare solo a tentare di evitare ulteriori rischi del nostro sistema dell'istituzione e della sanità anche il nostro istituto come altri è impegnato a riflettere in generale ancora sui necessari e possibili aggiornamenti dei livelli di autonomia dalle regioni senza però incedere a impulsi diciamo populisti fantasiosi in tale direzione prima dell'estate proporremo agli amici soprattutto un altro convegno di studi nel quale si tenteranno di raffermare le ragioni di quel regionalismo cooperativo che riprenda nel quale un convegno nel quale si riprenda l'insieme dei temi dell'attuale riforma e si proponga una revisione possibile dell'intreccio dei rapporti politici amministrativi interni ed esterni al sistema regionale certo bisognerà pensare ai principi va chiesto Renato principi e indirizzi fondamentali i rapporti tra autonomia e potenza cosa diavolo intendiamo che rapporto c'è tra un modello istituzionale autonomo e l'autonomia dell'individuo oggi come si può e questa autonomia dal singolo o dalla comunità rispetto a comunità più grandi nelle quali si è inserite e le quali a volte sono inserite in contesti più grandi per esempio la nostra in Europa allora cosa significa bisogna che ne parliamo e quindi anche prendo anche questo da Balduzzi l'attenzione a differenziare i diversi hai detto benissimo Renato perché diversi temi differenziarli e analizzarli una per una i diversi temi che sono emersi dalle criticità dell'autonomia differenziata quel che si continuerà a fare insomma diventerà probabilmente un'espressione se volete significativa scientificamente fondata dell'opinione pubblica senza effetti senza effetti concreti probabilmente un'espressione dell'opinione pubblica cioè di quella che nella cultura liberale democratica è stata sempre considerata la regina della democrazia una regina che ora pare abbia perso la sua corona grazie bene chiudiamo è un po' tardi grazie a tutti per la pazienza anche a quelli collegati e infatti buonasera